In apertura del nostro incontro dedicato alla memoria del fascismo e della sua storia e al dovere di conservarne la memoria dunque desidero rivolgere un saluto e porgere un cordiale benvenuto qui all'archivio storico della Presidenza della Repubblica a tutti i presenti e a coloro che ci seguono da remoto attraverso la diretta streaming. Un saluto di benvenuto ai relatori, Emilio Gentile, l'autore dei volumi che oggi sollecitano la nostra riflessione che sede alla mia destra Emilio Zani che dialogherà con l'autore e tessendo i fili di una riflessione spesso comune e talvolta condivisa condotta nell'arco di oltre 40 anni di vita professionale, amicale, comune. Relatori che ringrazio per la loro partecipazione a questo nostro incontro e per i contributi che ascolteremo a breve che hanno reso possibile la realizzazione di un evento storiografico di straordinaria importanza di forte spessore ideale che assume oggi un valore emblematico anche in ragione del contesto in cui si colloca la nostra manifestazione la ricorrenza degli 80 anni dagli avvenimenti che si susseguirono in Italia nel corso del 1943 culminati nella riunione del Gran Consiglio del Fascismo del 24-25 luglio che decise di fatto la deposizione di Benito Mussolini seguita dalla revoca dell'incarico di capo del governo da parte del Re e dalla proclamazione dell'armistizio l'8 settembre del 1943 una ricorrenza, sottolineo, centrata su temi nevralgici che continuano a segnare ancora oggi la nostra società fra questi vi è la questione del fascismo e quella della ritrovata unità spirituale affiorante già a partire dal 25 luglio del 1943 perdurata sino alla fine della guerra che consentì al nostro partecipare alla lotta comune il 25 luglio del 1943 non coincise purtroppo con la fine della guerra e del già lungo sacrificio cito il presidente Giuseppe Saragat il breve tempo che trascorse tra quel giorno e l'armistizio costituì la drammatica premessa di eventi la cui dimensione superò ogni più fosca previsione con queste parole il presidente Saragat nel ventesimo anniversario della liberazione il 9 maggio del 1965 interpretava quel sentire comune suscitato da un risveglio istintivo della coscienza nazionale ma anche dalla resistenza lo stesso che avrebbe consentito al nostro paese cito di passare dalla situazione di paese vinto arreso se a discrezione a quella di paese cobelligerante e le nazioni alleate si tratta di avvenimenti che già nel settembre del 1953 in occasione del decimo anniversario della proclamazione dell'armistizio il presidente Luigi Enaudi nel pieno del processo di elaborazione del nuovo lessico presidenziale e costituzionale della Repubblica aveva interpretato e rappresentato al paese come la ripresa del cammino risorgimentale della patria il dibattito politico nazionale ed ora ricordo le parole indirizzate dal presidente Gronchi ai partigiani d'Italia nel decennale della Costituzione il dibattito politico nazionale dicevo leggeva infatti gli eventi maturati tra il 1943 e il 1945 come un percorso che è allegato senza soluzione di continuità e risorgimento alla resistenza nel nome della libertà e dell'unità del paese in questa prospettiva si muove anche la lezione di pedagogia presidenziale maturata dal presidente Leone in occasione del trentesimo anniversario della liberazione nel 24 aprile del 1975 le cause dell'instaurazione della dittatura fascista furono varie scriveva Leone e sono state identificate soprattutto nelle gravi incertezze negli errori della classe dirigente e degli stessi massimi responsabili dello Stato nella collusione con forze reazionarie nell'assenza di ogni intervento dei poteri pubblici per eliminare lo Stato permanente di conflitto e di disordine nella stanchezza del paese dovuta anche a delusioni conseguenti al Trattato di Pace e al mancato accoglimento di fondamentali e legittime istanze popolari quel regime dette al paese la risposta più dura e involutiva che culminò nella soppressione di tutte le libertà dei partiti politici, delle libero organizzazioni sindacali e del Parlamento le stesse realizzazioni compiute, proseguiva Leone che in un certo periodo di tempo determinarono un'area di consenso finirono col dissolversi in una realtà che deluse quando perfino non le progidico irreparabilmente le aspettative del popolo italiano basti pensare alla sterile politica autarchica alla drammatica constatazione che la cortina delle spettacolari parate delle retoriche e le saltazioni patriottiche copriva il vuoto dell'improvvisazione militare al fallimento di una politica estera impregnata su intimidazioni e scelti razionali ed impulsive che ci precipitarono nell'assurda alleanza col nazismo lo sbocco della dittatura, concludeva il capo dello Stato fu la guerra, non voluta, non compresa dal popolo italiano contraria agli interessi, alla tradizione e alla storia del nostro paese scatenata nella più assoluta e non ignorata in preparazione in realtà, ed è questo il punto che desidero sottolineare l'elaborazione di un processo che segni il passaggio da una memoria divisa a una memoria condivisa e l'emergere di questioni identitarie che lo stesso processo solleva continuano ancora oggi a impegnare il sentire collettivo e il dibattito pubblico fra parti storiche e sociali che hanno giocato ruoli contrapposti nel corso di eventi storici rivelatisi cruciali per la storia del nostro paese poiché quella fu anche guerra civile cito ancora Leone che con i suoi orrori ed errori tristamente vide gli italiani l'un contro l'altro armati dobbiamo ricordare, in ragione di questo che noi, come ogni paese civile nell'accingersi a ricomporre il testuto nazionale rendemmo onore anche alla memoria di quelli che caddero combattendo in buona fede nel campo opposto anche il titolo prescelto per la nostra manifestazione Italia 1943 guerra, istituzioni, società, luoghi, fascismo pensato per imprimere un primo chiaro indirizzo al panel delineato per il nostro incontro assume oggi un valore emblematico perché centrato sulla genesi degli eventi giunti a maturazione nel corso del 1943 ma anche focalizzato sulle questioni sollevate dalla stereografia sul fascismo dell'ultimo cinquantennio come nella tradizione dell'archivio storico il programma della manifestazione pubblicato sul nostro portale storico nella mail d'invito reca stralci di interventi coerenti ed emblematici rispetto ai temi trattati svolti dai capi dello Stato nell'esercizio della propria funzione di garanti della Costituzione di rappresentanti dell'unità nazionale gli stessi che segnano le declinazioni progressivamente assunte dall'essico presidenziale cui ho appena accennato diacronicamente documentate dalle carte conservate dall'archivio storico della Presidenza della Repubblica in occasione del nostro incontro centrato sulle questioni sollevate dai volumi di Emilio Gentile storia del fascismo e totalitarismo 100 ritorno alla storia si sono scelti taluni passaggi che costituiscono l'ordito di questo nostro incontro agli interventi di Enaudi, Gronchi, Saragat e Leone esponenti della generazione dei padri costituenti maturata negli anni del regime fascista utili a mio avviso a connotare lo stato della riflessione pubblica sul fascismo e ad evocare il lento processo di elaborazione concettuale che dalla memoria ci conduce alla storia si sono affiancati con una scelta comune taluni passaggi di Mussolini, Grandi e Scorza pubblicati tra il 1919 e il 1968 scelti da Emilio ricordo che il nostro convegno nel prendere lo spunto dai dibattiti dagli studi, dalla denza memorialistica e dai contributi storiografici pubblicati sul tema rientra nel ciclo di attività seminariali che questo archivio storico ha dedicato agli 80 anni dagli eventi del 25 luglio e dalla proclamazione dell'armistizio dell'8 settembre del 1943 si tratta di un ciclo di incontri e oggi si svolge il quarto dei nostri incontri intesi a ripercorrere idealmente il lungo itinerario che condusse il nostro paese alla liberazione lungo un percorso che vide nascere dalle rovine della guerra una nuova e diversa Italia che troverà i suoi compimenti il 2 giugno del 46 con la scelta della Repubblica e il primo giornale del 48 con le entrate in vigore della Costituzione di cui quest'anno si celebra nei 75 anni per l'incontro che ho il piacere di introdurre si è scelta la cifra del dialogo tra Luciano Zani ed Emilio Gentile tessuto sulle questioni progressivamente sollevate dall'opera monumentale condotta per oltre un quarantennio 48 fondamentalmente ha precisato Emilio nel volume opera monumentale perché sterminata direi ubiqua in termini di ricerca su fonti documentari e bibliografiche su cui tornerò a breve ma anche vastissima in termini di elaborazione storiografica adesso non credo che la figura di Emilio Gentile richieda presentazioni ricordo comunque tra le tappe fondamentali storico di fama internazionale tra i massimi studiosi internazionali del fascismo le cui opere sono state tradotte in varie lingue professore merito di storia contemporanea dell'Università di Roma La Sapienza dal 2012 accademico dei lincei professore visitatore in Australia, Stati Uniti e Francia Emilio Gentile nel 2003 ha ricevuto dall'Università di Berna il premio Hans Sigrist per i suoi studi sulle religioni della politica il 4 maggio del 2021 è stato insignito dal presidente Sergio Mattarella dell'onorificenza di grande ufficiale dell'ordine al merito della Repubblica Italiana come accennato in apertura Luciano Zani svolge oggi il ruolo di discussant professore merito di storia contemporanea presso l'Università di Sud di Roma Sapienza vicepresidente dell'Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia, dall'internamento dalla guerra di liberazione Luciano ha contribuito in modo rilevante avvalendosi di fonti documentarie pubbliche e private italiane e straniere inedite e spesso tessute di memorialistica agli studi e alle riflessioni sul fascismo sulla seconda guerra mondiale sulla resistenza e sulle motivazioni ideali che hanno solicitato una vasta partecipazione popolare su entrambi i fronti con particolare riferimento alle vicende dell'esercito e dei militari italiani dopo l'8 settembre e negli anni della deportazione in Germania con riferimento alla questione della memoria dei laboratori coatti italiani, militari e civili impiegati nell'economia di guerra tedesca il 12 ottobre del 2022 Luciano è stato insegnato al presidente Sergio Mattarella dell'Onno di Vicenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana ecco ci sono dei punti che vorrei sottolineare in particolare uno la discussione sollecitata dall'opera di Emilio Gentile pone, direi propone la questione del rapporto virtuoso tra storiografie e fonti anche in termini di metodologia della ricerca documentaria in particolare la sua nuova storia del fascismo nella quale, come leggiamo nell'introduzione dell'autore sono confluite con una rielaborazione sintetica in un ampliamento documentario le ricerche pubblicate negli ultimi 48 anni nel caso del percorso di ricerca dell'autore ricorso da tre passaggi eloquenti che illuminano a mio avviso il suo profilo di studioso ricordo in primo luogo la bibliografia dell'Archivio Centrale dello Stato dedicata alle opere edite tra il 1953 e il 1989 dove sono pubblicati contributi realizzati dai circa 20.000 studiosi che in quegli anni utilizzarono la documentazione conservata dall'Archivio Centrale fra questi vi sono Emilio e Luciano in quegli anni in cui archivisti e storici sia pure entro ambiti e prospettive dettate dai reciproci ruoli si confrontavano nel segno di un uso rigoroso e contestualizzato dai documenti senza alcun cedimento in senso ideologico anche noi ci siamo affiancati nel corso di riflessioni comuni e qui è iniziato diciamo il nostro rapporto di amicizia intellettuale che poi è proseguito negli anni nel caso di Emilio Gentile la sequenza dei titoli è basta e documenta l'inesauribile attitudine a confrontarsi con le fonti cito alcuni titoli che compaiono nella bibliografia così prolungata il primo articolo è La voce e l'età giuristiano del 72 le origini dell'ideologia fascista nel 75 la politica di Marinetti storia contemporanea del 76 l'edizione del carteggio di Giustino Fortunato perché diciamo per ogni titolo edito la bibliografia dell'archivio centrale ricostruisce tutto il percorso di ricerca tutte le fonti consultate ancora la voce Alfredo Rocco in Uomini e Volte del Fascismo a cura di Ferdinando Cordova del 1980 e poi proseguendo negli anni 80 i lavori dedicati alla crisi del socialismo e alla nascita del fascismo nel Mantovano e Giovanni Giuriati e il mito dello Stato Nuovo e quindi fondamentalmente andando avanti ancora il problema del partito nel fascismo italiano e la natura e la storia del PNF in Italia è storia contemporanea dell'85 anche perché storia contemporanea assolse un compito di pubblicazione di tutta una serie di lavori di quella generazione in secondo luogo ancora in tema di metodologia della ricerca documentaria attenta a saper vedere le tracce perché ciascuno di noi poi individua nei lavori che legge quello che è il percorso che lo sottende più affine alla propria formazione ecco essere attenti a vedere le tracce ricordo in questo senso la questione della verbalizzazione della seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 24-25 luglio del 43 evento che costituisce di fatto la chiave di volta di questo nostro incontro ricostruito con estremo rigore da Emilio nel 2017 in un saggio dal titolo eloquente il verbale che non c'è alcune considerazioni sui nuovi documenti inediti riguardanti l'ultima seduta del Gran Consiglio nelle carte Federsoni acquisite dalla direzione generale degli archivi allora si organizzò in organizzata una mostra di cui Emilio fu curatore e poi un convegno e furono pubblicati gli atti per l'appunto nel 2017 e questo suo saggio che considero un contributo che nel dipanare è una vicenda oltremodo complessa ricostruita nel tempo con assoluta approssimazione costituisce questo saggio e questo contributo a mio avviso un modello di organizzazione della ricerca per il rigore filologico e il bagaglio metodologico adottati nel condurla le carte appartenenti all'archivio personale di Federsoni uno dei più autorevoli protagonisti del ventennio fascista ricordavano infatti l'ultima seduta del Gran Consiglio iniziata a Palazzo Venezia alle 17.15 del 24 luglio del 43 terminata alle 2.30 del giorno successivo dove per volontà di Mussolini non era stato redatto un verbale ufficiale della seduta ed Emilio diciamo in una maniera assolutamente puntuale precisa capillare filologicamente impeccabile e ricostruisce interventi precisazioni cioè è veramente un modello in terzo luogo infine in chiusura di questo mio intervento mi piace ricordare un'ulteriore lezione di metodo che si ricava da un passaggio dell'introduzione di questo volume che adesso è oggetto di questa discussione presentazione la storia del fascismo è stata raccontata molte volte nei cento anni dopo la sua ascesa al potere raccontarle ancora una volta poteva apparire un'imperenza superflua scrive l'autore ma tale non è sembrata a chi studia la storia del fascismo da quasi mezzo secolo ha fatto ricerche negli archivi nelle biblioteche ha letto gran parte delle storie del fascismo pubblicate nelle lingue che è in grado di capire ha valutato criticamente i documenti che i loro autori hanno consultato i temi che hanno trattato gli argomenti che hanno esposto le interpretazioni che hanno proposto nonostante la mole di conoscenze sul fascismo accumulata nel corso di oltre mezzo secolo attraverso le sue personali ricerche quelle di altri storici nell'accingersi a comporre una nuova storia del fascismo chi scrive l'autore ha scelto di avvalersi unicamente delle fonti primarie edite ed inedite e sulla loro base raccontare come si è svolta la parabola storica del fascismo dal 1919 al 1945 la storia del fascismo prosegue l'autore è stata spesso raccontata per dimostrare una tesi confermare una teoria proporre un'interpretazione questa nuova storia del fascismo non sostiene una tesi non presuppone una teoria non propone un'interpretazione racconta i fatti accaduti come è stato possibile conoscerli attraverso i documenti nella loro successione cronologica senza anticipazioni retrospettive delle loro conseguenze usando il linguaggio dei contemporanei per definire eventi mutamenti movimenti organizzazioni istituzioni proponendosi di comporre una storia e non una cronaca Chris scrive conclude l'autore è convinto che sia compito dello storico ed è questo il punto che desidero sottolineare che sia compito dello storico seguire la successione delle vicende così come furono vissute da coloro che si erano immersi e agivano con la loro iniziativa per indirizzarle nel senso da loro voluto muovendosi però nell'incertezza del futuro che a loro era ignoto ecco questo secondo me ai miei occhi è il contributo di un'evoluzione intellettuale molto importante grazie bravo allora procediamo io prima di tutto io prima di tutto ringrazio la sovrintendente Marina Giannetto sia per aver organizzato questo evento abbastanza particolare questo dialogo e sia per veramente le parole i ricordi affettuosi di quando ci siamo conosciuti all'archivio centrale dello Stato la ringrazio anche di aver messo a disposizione di tutta la sala quelle bottiglie d'acqua che vedete ai due angoli perché immagino che vederci bere qui ogni tanto per chi è venuto col caldo e ovviamente ringrazio tutti i presenti perché veramente è stato eroico ecco cominciamo a usare termini che poi ricorreranno probabilmente è stato eroico venire in una giornata così calda qui vi dico anche che io ed Emilio abbiamo riflettuto tre secondi su questo ci daremo del tu perché l'idea è di ci conosciamo da circa 50 anni e l'idea è quella di riprendere dialoghi che abbiamo cominciato appunto in tempi lontani per molti anni per circa 11 anni andando insieme in macchina alla nostra a quella che è stata la nostra prima università l'università di Camerino per poi ritrovarci parecchio tempo dopo in Sapienza e insieme in macchina che cosa volete che potevamo fare potevamo ovviamente dialogare e discutere di questi di questi temi è Emilio che mi ha fatto pensare al fatto che lui ha dedicato allo studio della storia del fascismo che è durato diciamo a seconda di dove lo si voglia far cominciare circa 25 anni la metà del tempo che il fascismo è durato e devo dire che a quel punto anche io ho riflettuto sul fatto che pur facendo anche tante altre cose per 50 anni mi sono dedicato a questi problemi e questo mi sembra una cosa interessante il meglio e anche con delle cose nuove o almeno che a me sono parse nuove io poi rischierò di farmi rimproverare da Emilio perché secondo me ci sono qui anche alcune cose che io non ricordavo di aver letto in libri precedenti e le dirò a costo di sbagliarmi però questo mi sembra veramente un frutto straordinario di questi 50 anni di riflessioni di grande peso ecco io l'ho pesato pesa 2 chili e 200 grammi ma diciamo le 1238 pagine di questo testo io penso di avere un lieve vantaggio su l'80% di voi cioè che io ho letto queste 1238 pagine pesanti 2 chili e 200 grammi e sono certamente uno di quelli che leggendo come dice Emilio nelle sue notazioni finali hanno molto sentito l'eco delle conversazioni con l'autore noi parleremo della storia del fascismo non della dell'Italia fascista la storia del fascismo quella storicamente determinata da date che si concludono nel 43 o nel 45 a seconda di dove volete farlo finire per cui se a qualcuno in base a qualcosa che noi diremo fischiassero le orecchie tipo quando uno di noi magari dovesse dire che Mussolini sostenne la fiamma non è soltanto bella ma è fascista per definizione ecco tappate smettete di farvi fischiare le orecchie noi parliamo di episodi fatti finiti compiutamente e storicamente determinati e conclusi nel 1945 1945 io trovo necessario dirvi l'ha già detto in parte Marina ma insisto perché questa è una questione ed è una lezione di metodo che io anch'io trovo come Marina assolutamente straordinaria cioè cosa ha fatto Emilio con questo libro che tra l'altro io ho letto anche perché mi è parso in una certa misura il completamento anche per come è scritto di una storia del partito fascista movimento e milizia che Emilio aveva scritto parecchi molti anni fa ecco ha detto di voler operare come un inviato speciale un inviato speciale e questo mutuare dal linguaggio giornalistico ha un senso preciso cioè c'è un fatto che si chiama fascismo spero di poter dire fascismo senza che un critico mi rimproveri come ha rimproverato ad Emilio che non si può parlare di fascismo e di totalitarismo se prima non si è chiarito il concetto di fascismo e di totalitarismo che mi sembra oppure non si è fatto uno sforzo il concetto di Dio è più semplice da spiegare chiamiamo subito questo no scusate questa battuta polemica non nomino questo critico ma insomma veramente sono rimasto stupefatto da questo tipo di critiche o come quella di non aver effettuato un'adeguata comparazione con tutti gli altri regimi fascisti o totalitari che si possono enumerare allora esiste un fatto che si chiama fascismo perché i fascisti lo chiamavano così e che ha dominato due decenni di vita e oltre del popolo italiano e ha condizionato totalmente la vita del popolo italiano in modo totalmente pervasivo infilandosi ovunque acquistando imponendo valori e significati nuovi è stato un fenomeno che si è imposto con una rapidità straordinaria ci ha messo tre anni per prendere il potere contro i 14 impiegati dal bolshevismo e i 13 impiegati da hitler questo è già di per sé un fatto straordinario un fatto unico ed è stato qualcosa come diceva adesso emilio totalmente proteiforme ha avuto una enorme quantità di metamorfosi stasera non so quanto certo non le potremo prendere tutte in considerazione è stato antipartito è stato partito milizia partito di governo partito grande pedagogo regime totalitario stato imperiale razzista monarchia alleata e sconfitta repubblica alleata occupata dall'alleato i tedeschi è stato un sacco di cose e quindi ci voleva un inviato speciale sul campo che si proiettasse in quella realtà come fosse un fatto nuovo pur avendolo studiato per mezzo secolo partendo dai fatti dalle cose e non dalle parole il contrario di quello che questi critici ti rimproverano dalle fonte primarie come ricordava Marina e quindi col vantaggio di cogliere quello che i fascisti dicono e fanno e diciamo vi assicuro leggendo i lavori di Emilio ma anche le ricerche che ognuno di noi ha fatto tendenzialmente i fascisti dicono sempre quello che pensano e che vogliono fare a meno che non decidano di mentire per ragioni tattiche ma quello che dicono è quello che pensano e vogliono fare ma anche ovviamente lo storico deve cercare di capire cosa non dicono e perché non lo dicono e questo lo può fare solo un inviato speciale che si è recato sul campo quindi ha potuto vedere da vicino gli eventi i cambiamenti le organizzazioni i movimenti le istituzioni i miti mentre parleremo probabilmente ne conterete tanti di miti e qui dal punto di vista dei miti queste sono cose che poi Emilio potrà riprendere appena cominciamo a dialogare ma ci tenevo a introdurre secondo me qual è la rilevanza di questo libro non è soltanto cogliere l'importanza della dimensione mitica nel momento in cui le masse irrompono nella politica non è solo questo non è solo il fatto come diceva Cassirer che il novecento è il secolo dell'intronizzazione del mito no è qualcosa di molto di più cioè è la facilità e la consapevolezza con cui i fascisti fascisti anche non di primo piano maneggiano il mito come il loro pane quotidiano io io farò solo due citazioni dal libro di Emilio ma questa la voglio fare perché è di un credo un abbastanza oscuro fascista che si chiamava spero di non fargli torto ma insomma si chiamava Guido Gamberini che nel 1928 dice quando parliamo dell'uomo nuovo dell'uomo nuovo fascista è chiaro che intendiamo parlare della società nuova la più seria e vera occupazione del fascismo è appunto di maturare dei nessi sociali un humus politico e storico in cui l'individuo cresca e le nuove generazioni si formino per questo occorre molta fede e pochissima teoria occorre cioè che nella vita nazionale imperino dei miti piuttosto che una vera e propria mitologia lo stesso linguaggio del capo la stessa prassi politica del regime reggono sui miti più che dei programmi esistono dei compiti più che delle formule esistono dei comandamenti più che dei filosofi ci vogliono dei soldati i miti del resto accompagnano sempre il formarsi di una grande civiltà ecco questo c'è solo una volta in queste 1300 rotte pagine però mi è apparsa una cosa interessante quindi questo libro parla del partito ovviamente parla del regime parla del duce del capo soprattutto del capo del governo c'è anche il governo ovviamente ma non in tutte le dimensioni ministeriali diciamo del del governo c'è ovviamente il vertice in cui governo e partito si fondono insieme e come io credo vedremo nel corso del dialogo questo è uno dei problemi e dei nodi interpretativi e una delle ambiguità irresolvibili del regime fascista essere contemporaneamente il duce capo del governo e capo del partito come due rette parallele convergenti ovviamente Emilio ci dice quali sono stati gli ideatori gli artefici gli esecutori i collaboratori di tutto questo tutti quelli che hanno nuotato nell'acqua della società italiana in tutte le sue componenti mobili e immobili e che operavano un po' come ha fatto l'inviato speciale che gli è andato vicino senza sapere come sarebbe andata a finire lo storico lo storico ha il vantaggio ma anche la pena di sapere come è andata a finire e non deve ovviamente farsi sviare da questo vantaggio considerarlo piuttosto una pena se possibile bisogna dimenticarsi di quello che è successo dopo per immedesimarsi con i protagonisti della storia anche i più abbietti nelle loro decisioni indecisioni nei gesti preparati in quelli impulsivi col caso con l'imprevisto ecco tutti in fondo rispondono a un copione sul palcoscenico della storia il copione non è mai completo non è mai certo allora anche lo storico straccia il copione e scrive a soggetto dimenticandosi del finale che pure conosce allora inviato speciale è un'espressione antica mutuata dal giornalismo nasce a inizio ottocento forse anche prima se il primo quotidiano nasce a metà del seicento oggi con linguaggio più adeguato potremmo dire che Emilio si è fatto teletrasportare storicamente in quegli anni e quindi quello che cercheremo di farvi capire è sentire come è stato questo viaggio e come è tornato da questo teletrasporto allora noi non abbiamo preparato nulla se non alcune fotografie che saranno un filo che consentirà a Emilio di passare da un argomento all'altro mentre io in modo petulante lo interromperò e però abbiamo deciso questo sì di cominciare da oggi perché la storia del 25 luglio comincia il 19 luglio allora io su questo voglio ovviamente che sia Emilio che ha scritto più volte di questo tema come ricordava anche Marina ci racconti questa storia io voglio solo dire per provocarlo che quello che mi è parso di capire è che le ricostruzioni e le fonti del 25 luglio sono tutte da prendere e buttare nel cestino più o meno quasi tutte della carta straccia perché raramente ci sono state più interpretazioni a posteriori per rifarsi una verginità politica da parte quasi tutti i partecipanti al Gran Consiglio del 25 luglio e quindi ovviamente l'idea che se ne è fatta dopo è invece molto legata a queste vere e proprie bugie quello che mi è parso di capire è che alla fin fine non so poi su questo Emilio cosa pensi ma che tutto sommato il 25 luglio del Gran Consiglio è un evento relativamente più marginale rispetto a quello che succede nel pomeriggio del 25 luglio con il re che riceve Mussolini e poi lo arresta e i due fatti sono tra loro assolutamente non concatenati anche se poi il Gran Consiglio col suo ordine del giorno è diventato un elemento invece giustificativo di quello che è successo il pomeriggio del 25 quindi il nodo storicamente rilevante è il colpo di stato del re e dei massimi vertici militari mentre un Gran Consiglio che era stato con piena consapevolezza preparato e soprattutto convocato per iniziativa del segretario del partito è chiaro che non è stato quello che poi i suoi massimi evocatori nelle loro memorie grandi Bottai Federzoni e Diverso questo ce lo dirà Emilio hanno provato a ricostruire mentendo ecco allora partiamo dal 19 luglio innanzitutto una brevissima premessa per ringraziare uso i nomi dell'amicizia Marina e Luciano per quello che hanno detto ed è solo la dimostrazione che a parte gli sforzi che uno fa per essere un buon ricercatore e anche un buon narratore dei fatti realmente accaduti tutto questo a me non sarebbe stato mai possibile se non avessi conosciuto fin dal 1967 quando ho messo piede per la prima volta in archivio le persone che nell'archivio non soltanto lavoravano per custodire i documenti ma lavoravano per far sì che chiunque entrasse per la prima volta fosse alla fine costretto a vivere con quei documenti a vivere di quei documenti e a saper capire che al di fuori i documenti non c'è storia anche se la storia quella accaduta non è tutta nei documenti ma l'unica storia che noi possiamo conoscere è quella che è nei documenti io ho sempre sostenuto e lo dicevo senza ironia che i miei libri avrebbero dovuto avere un lungo elenco di autori e io dovevo essere alla fine colui il quale ha saputo ascoltare gli archivisti ha saputo utilizzare lealmente i documenti che gli archivisti gli hanno dato e ogni contributo personale era puramente casuale dovuto al fatto che si è trovato prigioniero della passione che gli archivisti comunicavano a uno studioso curioso per cui arriva a 77 anni e dice ma ho ancora 40 o 50 faldoni di fotocopie di appunti tutto verrà buttato via perché io non ho più il tempo di dedicare altri 50 anni a studiare 23 anni quindi e con Luciano la frase finale di ringraziamento che io rivolgo a tutti quelli che in questi 40 anni 50 anni hanno contribuito a farmi lavorare sempre in una maniera più responsabile nei loro confronti prima di tutto perché io tutte le volte che do un qualsiasi scritto ad un mio amico o una mia amica dalle quali mi aspetto proprio per l'amicizia quello che io farei a loro se non mi piace buttalo via te lo dico subito e conserviamo l'amicizia quando mi danno un parere favorevole per me è una grande soddisfazione che non ha nulla a che fare con la vanità che mi è così congeniale come i capelli biondi gli occhi azzurri e il metro e 95 di altezza perché questo è veramente un lavoro che si fa con grande pena se vuoi cercare di capire che cosa è accaduto senza far intervenire quella ridicola sapienza postuma che tutti possono esibire e che spesso si trova soprattutto nei manuali di storia laddove si dice fecero questo e non sapevano che poi sarebbe accaduto e imboccarono questa strada e non tenevano conto per cui in realtà questo tipo di storico è colui il quale rifarebbe le bozze pure al padre eterno per come ha fatto il mondo frettolosamente in sei giorni quando se ci avesse messo sei infiniti probabilmente qualche problema l'avrebbe evitato e non avrebbe mandato suo figlio per riparare agli errori iniziali di un uomo fatto male di una creatura fatta male e che poi ha continuato ad essere fatta male anche per il contributo che ha dato il suo figliolo non facendosi capire bene come avrebbe dovuto comportarsi l'umanità dopo che lui aveva preso tutti i suoi peccati lo storico almeno come lo abbiamo abbiamo tentato di farlo noi che si siamo formati in una certa epoca in cui o si andava in archivio o è meglio che andavi a fare e non c'è nessuna cattiva giornalista io con molta franchezza dico che il vero storico è ancora colui il quale si occupa fino all'inizio dell'età moderna poi comincia il giornalismo serio quello degli inviati speciali perché sono purtroppo quelli ancora coinvolti perché se arriviamo fino al medioevo ma chi è che pensa che ci sia un innocenzo terzo eterno un catarismo eterno e invece oggi c'è il fascismo eterno quindi vuol dire che probabilmente se persino quando ci occupiamo del rinascimento e dell'umanesimo siamo condizionati da tutta quella pessima laicità che tuttora inquina le coscienze della fede uno fa il lavoro onesto e fa l'inviato speciale poi ci sono i giornalisti cialtroni cioè gli storici che fanno finta di essere storici e invece non sono neanche giornalisti è chiaro che in questo il termine giornalismo ha la più alta dignità sono gli storici sono gli storici che hanno il dovere di penare a liberarsi di tutte le proprie conoscenze e cercare anche di fare un lavoro affascinante meraviglioso quello cioè di ripercorrere le vicende del passato sapendo che a ogni momento di ciò che stanno ricostruendo la via può essere completamente diversa completamente diversa e a volte basta un pazzo dalle motivazioni mai conosciute come Oswald assassinare un giovane presidente e cambiare radicalmente la storia degli Stati Uniti e di conseguenza quella del mondo sarebbe bastato un professore di architettura di Vienna che avesse promosso quel giovane Adolfo Hitler alla seconda prova e probabilmente la storia dell'umanità sarebbe stata completamente diversa è inutile dire beh ma questo è no è così è così seppure Dio per chi ci crede ha dovuto mandare suo figlio a cercare di riparare qualcosa che non era funzionato figuriamoci nella storia umana in ogni momento quando Mussolini decide nel dicembre del 19 di vendere il giornale e di lasciare la politica dopo che lui uomo sulla scena nazionale da dieci anni da dieci anni dal 1909 diciamo dal 12 da quando diventa il personaggio più importante del partito socialista a soli 29 anni prende meno di 3.000 voti personali a Milano dove dal 1912 era una delle figure più poporali più prestigiose più autorevoli e prende 2.400 da passavoti e a quel punto dopo che già aveva fallito completamente nel 14 col tentativo di portare il partito socialista dalla neutralità all'intervento e però riesce a recuperare con il giornale ma che nel 1919 non riesce ad avere più di 7.000 abbonati quindi nel 1919 dicembre 1919 Mussolini è un uomo consapevolmente finito e dice che a questo punto vende il giornale e allora andrà in giro per il mondo suonando il violino scriverà drammi aveva già un dramma pronto un libro pronto proprio sul mito dell'eresia che lo dice la sua amante che poi lo rivela alcuni anni dopo nella biografia a Margherita Saffatti e che non fossero delle millanterie inventate dopo è il fatto che lui invece di rimanere in Italia a ricomporre i pezzi di un partito di un movimento che nel 1919 31 dicembre ha 800 iscritti in tutta Italia chi avrebbe mai immaginato che 800 iscritti in tutta Italia un anno e mezzo dopo sarebbero diventati 300.000 e il partito dominante con le armi nella scena politica nazionale i suoi ex compagni socialisti dicono sembra che sia affiorato dal naviglio un cadavere potrebbe essere quello di Benito Mussolini è annunciato addirittura un numero speciale perché nelle collezioni degli avanti dell'avanti che sono nelle nostre biblioteche non si trova però è certo che fu l'è perché fu un'edizione speciale fatta dall'avanti in cui misero questo trafiletto che avevano trovato un cadavere in stato di avanzata decomposizione nel naviglio pare che sia quello di Benito Mussolini e lui si sentiva tale tant'è vero che tratta con Ettore Conti e con altri industriali per partire e farsi fare l'inviato speciale in un viaggio con Luigi Barzini in Estremo Oriente quindi da questo punto di vista se lo storico non fa questo grande sforzo di capire com'è possibile che un uomo che sta lasciando tutto perché per la seconda volta subisce una totale sconfitta della sua ambizione poi piano piano ma neanche rapidamente risale la china questa è la prima questione che io mi sono sempre posto quando per esempio ho sempre avuto in odio quel proverbio motto che cosa sia la montagna partolì il topolino che mi sembra ridicolo vergognoso perché è un insulto a chi è topolino e nasce da una topolona non da una montagna e io però appunto ho fatto il contrario ho scritto una storia del fascismo di 54 pagine nel 2000 e poi la storia il topolino ha partolito due chili e mezzo quasi due chili e duecento e passa grammi tutto questo perché perché dopo aver passato nel 2000 già alcuni decenni almeno 25 anni nello studio del fascismo senza dover ripercorrere la narrazione mi pareva di poter dare dei risultati di queste esplorazioni e dire che cosa era che non avevo spiegato niente a nessuno abbiamo assistito negli ultimi 25 anni ma soprattutto siamo nell'ultimo decennio ad una esplosione incontrollata di interpretazioni del fascismo di teorie del fascismo di studi comparativi del fascismo che però poi ad osservarli attraverso potremmo dire una radiografia della sostanza che ha prodotto tutto questo abbiamo un'impressione di avere decine di migliaia perché parliamo di tutto il mondo decine di migliaia di esperti e interpreti del fascismo che elaborano teorie interpretazioni a volte persino storie del fascismo che sono come i palloncini che elabora chi sta mangiando il chewing gum e pensa che si sta nutriendo questa è la realtà che mi ha spinto poi a dire non ne posso più non ne posso più di sentirmi dire ogni volta ma il fascismo non era veramente fascista perché persino questo è stato detto storici di grande valore con questa mania comparativa di quello che già sappiamo e siamo saggi perché siamo venuti dopo beh il fascismo sì però poi c'è il nazismo che è più fascista del fascismo per cui possiamo dire che il regime fascista è stato scritto questo in un libro autorevole tradotto anche in italiano rispetto al regime nazista fu un regime semifascista lui poi ha accennato se poi entriamo in quell'orribile selva oscura che è il totalitarismo Dio ce ne scampi Dio ce ne scampi quante stupidaggini sono state dette semplicemente perché si ignorava la cosa più elementare che dovrebbe essere il primo elemento di conoscenza dove quando e come è nato il termine totalitario è totalitarismo e poi sono scritti centinaia forse migliaia di libri di interpretazione del totalitarismo senza sapere da cosa aveva avuto origine questa parola quando e come allora uno si domanda ma c'è qualche cosa proprio nel fascismo di peculiare Luciano che lo rende così complesso più di qualsiasi altro fenomeno per cui 23 anni di fascismo hanno lasciato il loro marchio nella coscienza dell'Italia dell'Europa e del mondo più di 62 anni di regime liberale più di 77 anni di regime repubblicano ma è possibile che esiste il fascismo e ahimè non c'è il liberalismo eterno cioè quello deve l'anarchismo eterno il comunismo eterno cioè vi rendete conto che oggi a 80 anni dalla fine del regime fascista e a oltre 102 anni della nascita della parola fascismo nel campo del dizionario politico noi ci stiamo ancora ad accapigliare appunto ma il fascismo aveva le profonde filosofiche domande ma c'era un'ideologia fascista c'era un'economia fascista c'era una cultura fascista no vedete su questa Emilio ha accennato una cosa importante la defascistizzazione del fascismo che non nasce soltanto dagli storici o dai teorici che si sono pronunciati sui fascismi più o meno imperfetti eccetera ma nasce anche dall'interno del fascismo cioè da quei fascisti che si sono reinterpretati come fascisti eretici in fondo moderati che quel revisionismo in fondo andava a parare da qualche altra parte moltissimi per cui a poco a poco c'è stato un meccanismo di espulsione dal fascismo di grandi bottai cioè i veri i veri insomma noi ci siamo chiesti e mi ricordo che forse era una battuta ma anzi era sicuramente una battuta ma fino a un certo punto perché ma e Mussolini cioè Mussolini era con quel suo passato di socialista rivoluzionario forse anche lui tanto fascista non era allora questo per farvi capire l'assurdità no di questo tipo di ragionamenti nel fascismo l'altra cosa che viene fuori da questo libro è che a proposito dell'ideologia fascista viene fuori in controluce un fervore di iniziative giornalistiche testate quotidiane testate periodiche enti culturali ma assolutamente straordinarie cioè non l'ideologia fascista voglio dire si regge su un tessuto culturale ampio che voglio dire è impressionante viene fuori da quello che io non ho dimenticato il tuo primo tema il 19 luglio ma questa premessa era necessaria perché tutto ciò di cui prima inorridivo cioè questa selva di palloni usciti dalla chewing gum poi magari c'hanno pure il titolo accademico cioè di questi che producono interpretazioni confronti storia comparativa senza macinare neanche un documento o limitandosi a consultare libri in cui documenti risalgono alle opinioni per esempio come di quelli che tuttora comparso sul giornale ieri o l'altro ieri raccontano la ultima seduta del gran consiglio e le battute finali in cui Mussolini dice voi avete provocato la crisi del regime è vero l'ho scritto e ne sono convinto il fascismo ha sempre detto esplicitamente ciò che voleva e quando lo nasconteva faceva peggio di quello che aveva detto perché raddoppiava quello che aveva già detto dal 19 luglio 1943 inizia la sistematica opera dei fascisti più importanti di mentire sistematicamente ai fascisti è mancato sempre il coraggio o la capacità della verità tant'è vero che non esiste una storiografia fascista che abbia la dignità di una storiografia non condizionata dalla mitologia fascista non mi si può citare Gioacchino Volpe che era un grande storico prima di diventare fascista e che sicuramente le sue opere da storico fascista non sono le più eccelse che lui abbia scritto ma il 19 luglio in queste ore Mussolini sta tornando da Feltre no non credo che sia il mio perché gli ho tolto la voce eh se no io proprio faccio a parlare e poi il suggeritore non serve in questo caso perché c'è Luciano che è troppo severo 19 torna precipitosamente in aereo da Feltre interrompendo un incontro con Hitler che avrebbe dovuto risolvere la situazione disastrosa di un paese ormai invaso dai nemici e sottoposto a continui bombardamenti e proprio questa mattina dalle 11 e 30 Roma ha subito il primo bombardamento a tappeto di oltre 500 aerei e ci sono in giro oltre 3.000 morti e decine di migliaia di feriti e morto anche il comandante generale dell'Arba dei Carabinieri Mussolini scende e racconta dopo di vedere tutta Roma coperta da una nube di fumo attraversando Roma in macchina vede proprio masse di gente che scappa e lui da governante da duce non va subito a San Lorenzo a vedere cosa succede ci andrà il pomeriggio del 26 luglio sette giorni dopo ed era l'uomo più onnipotente d'Italia quello che per 23 anni ha comandato quello che voleva e come voleva no perché lui a questo punto c'è il problema che aveva subito la pressione tre giorni prima il 16 luglio del segretario del partito e di altri gerarchi che si recano da lui per dirgli adesso smettiamola con questo potere totalitario concentrato nelle tue mani condividi la responsabilità delle tue scelte e delle tue decisioni con noi e dici cosa facciamo cosa facciamo è curioso che tra questi gerarchi che hanno il coraggio primo di tutto il segretario del partito nominato appena da un paio di mesi da aprile di andare da Mussolini a brutto muso dirgli no tu adesso devi convocare il gran consiglio non ci sono né grandi né federsoni quelli che poi sono passati nella loro autobiografia diventata addirittura storiografia gli artefici del gran consiglio grandi sta a Bologna e neanche risponde federsoni sta a Roma e dice scusate giustifico l'assenza cominciano le prime menzogne perché Mussolini promette il gran consiglio ma non dice quando qualcuno di quelli che erano presenti il padre ha detto sì dopo la fine della guerra dopo la vittoria per celebrare la vittoria Farinacci e Bottai che erano agli antipodi di tutte le concezioni del fascismo stesso e gli dice no no bisogna farlo e lui torna il 19 domani chiama Scorza e gli dia di convocare il gran consiglio per il 24 luglio il 24 luglio cosa succede dal 19 al 24 niente di straordinario nel senso che giunta la convocazione con la prescrizione indossata la Sariana cioè un bombardamento a tappeto di 500 aerei su Roma il segretario del partito ci tiene perché anche questo fa parte della storia perché quando Mussolini riceve questi gerarchi e segretari del partito il 16 luglio e ognuno era andato vestito come si trovava al momento perché fu tutta una riunione improvvisata e una visita improvvisata a Mussolini Mussolini poi era arrabbiatissimo ma chi sono questi cialtroni chi è addirittura quasi in pantaloncini corti chi senza la divisa cioè anche per Mussolini la cosa importante è che questi gerarchi che avevano avuto in mano il destino di milioni di italiani dovevano andare da lui dignitosamente vestiti per cui si prescrive la Sariana da quel momento non c'è nessuna congiura non c'è nessun complotto Grandi arriva piuttosto tardivamente il 20 poi lì cominciano gli imbrogli Grandi in un libro dice il 20 in un diario dice del 21 cioè tutte scritture simultane e però questo simultaneamente non sapeva se a Roma c'era arrivato il 19 il 20 o il 21 e da lì cominciano tutti i pasticci ho incontrato Tizia Caio e gli ho detto portiamo l'ordine del giorno poi Tizia Caio nel suo diario scrive ho visto Grandi oppure non ho visto Grandi oppure ho visto Grandi mi ha dato un po' a piegola tre pagine di ordine del giorno ma va modificato ed è bottai poi Grandi va dal segretario Scorza e gli porta una stesura ovviamente Grandi suoi morie ci dice che lui questa stesura ce l'aveva addirittura fin dal 1941 dalla guerra di Grecia che l'aveva fatta vedere anche a Bottai lui dalla guerra di Grecia chiedeva la convocazione del Gran Consiglio e la sostituzione di Mussolini è solo che se poi leggiamo le lettere che Grandi scrive a Mussolini durante la campagna di Grecia Duce qui c'è il vero fascismo Duce qua Duce là e fino al 42 all'aprile 42 nel presentare il nuovo codice civile al re la cosa che salta di più era la tutela della famiglia ariana la purezza della razza codice al quale avrebbe collaborato anche Calamandrei ma forse queste pagine gli erano sfuggite Grandi che nel 41 fa ripubblicare un articolo in cui inneggia alla nuova civiltà germanica ai due grandi popoli alle due grandi rivoluzioni Bottai non dice affatto che lui ha incontrato Grandi nel 41 e Grandi gli ha fatto vedere l'ordine del giorno o gli ha parlato di un ordine del giorno anzi gli ha detto io Mussolini vuole che rimanga governatore della Grecia ma io me ne vado a casa l'altro è Federzoni Federzoni dice c'è un conciliabolo racconta un conciliabolo di Gerar che sbaglia la data il 19 e invece era il 16 ma quello è un conciliabolo gli state pure invitato e rifiutato da quel momento esiste tutta una letteratura sul Gran Consiglio che ahimè è stata recepita nonostante il rigore che aveva nella valutazione delle fonti persino da Renzo De Felice soprattutto le varie stratificate menzogne costruite da grandi fin dal febbraio 1945 se voi leggete il suo resoconto sul Gran Consiglio a febbraio del 1945 su Life lui dice che Mussolini è infuriato minaccia di farli fucilare non gli impedisce di parlare gli urla contro smettila non te lo permetto poi nella versione che farà qualche anno dopo nel 1946 tutto si svolse in maniera calma Mussolini mi ascoltò attentamente beh insomma possibile che questo Mussolini a seconda della testimonianza dello stesso testimone è vero che era un fregoli e passando da anarchico a socialista poi fascista però non è che lo poteva fare davanti alla stessa persona in maniera così immediata la menzogna però che inizia il 19 quando tutti quanti invece di dire cosa facciamo per salvare l'Italia discutono su cosa facciamo del fascismo cosa facciamo del regime cosa facciamo dei ministeri aveva una possibilità di chiederlo dal 1939 sono stati tre anni senza chiedere che si riunisse il Gran Consiglio eppure Mussolini aveva decisioni che riguardavano il Gran Consiglio come le nuove acquisizioni territoriali della Slovenia perché tra le pochi compiti su cui deliberava il Gran Consiglio c'erano i trattati internazionali ora bene o male se io incamero una provincia o addirittura ho un nuovo regno quello che non è mai andato a Medeo di Savoia era Medeo di Savoia credo almeno per quello i cosiddetti sostenitori della costituzionalità e del rispetto del Gran Consiglio dovevano andare da Duce e dire oh a Duce abbiamo una nuova provincia la provincia di Ljubljana abbiamo allargato i confini d'Italia e ci vuoi convocare per stabilire come governarli? E non lo fanno non lo fanno però tutto comincia col primo mentitore Benito Mussolini il primo mentitore Benito Mussolini il quale fa il primo resoconto pubblico della seduta del Gran Consiglio risalendo al 19 luglio quando io arrivo a Roma eccetera per trovare una soluzione racconta a modo suo come si sono svolti questi preludi del Gran Consiglio in cui comunque lui viene informato di tutto sarebbe la prima congiura che i congiurati fanno la luce del sole informando la vittima di cosa gli vogliono fare ma è semplicemente che nessuno voglia fargli fare la fine del prigioniero arrestato da Badoglio prima cosa seconda cosa Mussolini conclude il resoconto dicendo che per ben due volte lui avverte i gerarchi che con quell'ordine del giorno grande che conosceva già mettevano in pericolo il regime e quando 19 lo votano cosa che non era assolutamente prevista nel Gran Consiglio da nessuna parte 15 articoli pochi pochi Mussolini dice che poi lui va col volume del Gran Consiglio il pomeriggio dal re per fargli notare ma il re aveva una memoria ferrea e lo sappiamo perché faceva il nomismatico e si vantava Mussolini altrettanto e non si ricordavano 15 articoli del Gran Consiglio e ci voleva un librone e bastava questo foglio ebbene Mussolini dice che alla fine dopo aver preso atto della votazione si alza e dice voi avete provocato la fine del regime è curioso però che questo lui lo scrive il primo luglio 1944 ma questa frase non andiamo poi al fatto delle memorie successive in cui solo due la riportano tutti e due interessati a riportarla anche se in opposte posizioni Dino Grandi e Carlo Scorza e ahimè chi dice come Cianetti nelle sue memorie pubblicate postume quella frase Mussolini non l'ha mai detta Mussolini è falso e in quelle dichiarazioni è vile curiosamente Renzo De Felice dà credito a Grandi e Scorza e non dà credito a Cianetti perché dice Cianetti doveva salvarsi la pelle dal processo di Verona però è curioso che in tutti gli atti del processo di Verona neanche quelli che hanno votato contro l'ordine del giorno di Grandi dicono che quei cinque traditori erano stati avvertiti da Mussolini che c'era la crisi del regime viene istituito un tribunale con un reato retroattivo in cui i cinque firmatari che hanno catturato vengono condannati a morte per alto tradimento per una legge retroattiva fatta nel novembre del 43 e nessuno neanche dei testimoni dell'accusa dice loro tutti quanti ovviamente i cinque condannati ma noi non volevamo affatto fare la fine del fascismo non volevamo affatto la fine dei Mussolini noi volevamo semplicemente che il re fosse coinvolto nella condotta della guerra riassumendo il comando militare nessuno di loro punta il dito e dice il duce ve l'aveva detto quindi tutto comincia l'assassinio di cinque innocenti gerarchi viene legittimato a posteriori con senno del poi da Mussolini dicendo che lui gli aveva avvertiti che sarebbe crollato il regime ora provate a fare uno sforzo proprio di come cerco di fare io ogni volta che mi occupo di solo di ipnosi mentale e cancellare tutto quello che sapete di quello che è successo dopo non ci troviamo semplicemente di fronte ad una repubblica sociale ad un processo che condanna cinque anzi tutti a diciannove a morte tra ne uno più a trent'anni tutto basato su una frase falsa di Mussolini inventata ripetuta e che ieri era ancora ripetuta su un quotidiano italiano che raccontava la storia del Gran Consiglio uno dice ma allora perché ho scritto un libro sul Gran Consiglio facendo quel lavoro che ti ringrazio è stato un lavoro faticosissimo ho sempre ammirato Kurosawa e ho detto anche io ho fatto Rashomon a Palazzo Venezia solo che Rashomon non è riuscito a dimostrare nulla io invece ho dimostrato che tutto quello che è stato detto dopo il 25 luglio mattina su quello che è accaduto nel Gran Consiglio è falso e curiosamente però sono stati trascurati quei diari in cui e sono su 22 testimonianze 20 su 2 no 19 perché la frase la dice Mussolini la ripete grande la ripete scorsa ma non la trovate in nessun altro di quelli neanche Federzoni che pure viene considerato il verbalizzatore soggettivo nel senso che lui mette questa frase ed è curioso che fra grandi Federzoni che si scambiano le testimonianze testuali che avrebbero scritto immediatamente dopo e invece le scrivono nel 56 Quella frase non c'è voi pensate che tutto ciò che oggi noi discutiamo sulla nascita sulla lascia della Repubblica sociale sulla resistenza sulla lascia della Repubblica è nato e fondato su una menzogna plateale su come è finito il fascismo in cui io sto cercando di togliere al massimo la parola a Luciano per non avere domande imbarazzate ma gliela devo restituire in cui come diceva Luciano in effetti ciò che avvenne in quelle dieci ore non aveva nessuna causa determinante per ciò che accadde alle 17 e 30 del 25 luglio e negli anni successivi ma allora se è così se Mussolini avrebbe potuto non convocare il Gran Consiglio avrebbe potuto bloccare il dibattito e non aggiornarlo alla sera tardi come invece avvenne non aveva fatto venire nell'anticamera della sala in cui si svolgeva il Gran Consiglio i militi in genere le sedute del Gran Consiglio c'era sempre una componente militare che e allora però perché non fa nulla per non avere un ordine del giorno ancorché non legato alla fine sua personale perché non fa nulla che cos'è l'eutanasia l'eutanasia politica di Mussolini è la conseguenza di 23 anni di incontrastato cesarismo totalitario la frase la uso io ma la usa Grandi la usa Federsoni cioè la cosa più curiosa è che tutti i colori quali poi si sono attribuiti all'atto eroico bombe fucili fucilazione cioè Grandi e Federsoni riportano come loro discorsi in sede di Gran Consiglio una analitica sistematica metodica accusa del regime totalitario lo chiamano così solo che lo fanno nascere nel 1932 e ne attribuiscono responsabilità a starace ora il totalitarismo lo inventano come concetto e come parola gli antifascisti fin dal mille aggettivo prima fin dal 1923 1925 prima della instaurazione del regime a partito unico perché si riferiva ad una cosa molto reale che era la presenza di un partito milizia legalizzato addirittura come milizia volontaria per la sicurezza nazionale con il compito di difendere la vittoria e gli sviluppi della rivoluzione fascista che operava in maniera arbitraria in uno stato che in quel momento dal 1923 al 1900 fine 1924 è ancora apparentemente legato alla presenza di partiti alla presenza di giornali alla presenza di un parlamento con una maggioranza parlamentare soltanto che tutti questi se non erano obbedienti al fascismo erano perseguitati sistematicamente dal primo novembre poi fino al novembre 1922 fino al 16 novembre 1926 quando viene chiusa definitivamente ogni forma di libertà sono gli antifascisti che dicono che dal momento in cui Mussolini prende il potere comincia la demolizione attraverso la persecuzione di tutte le libertà dello statuto e ovviamente di quella che era ancora una monarchia costituzionale parlamentare questo dura attraverso tutte le vicende che io racconto e delle quali però do sempre la esatta collocazione del momento in cui tutto poteva saltare e prendere un'altra direzione se ci fossero state le persone capaci di agire o reagire ma ci sono momenti nei quali proprio quelle persone mancano oppure non hanno successo tipo l'attentato di Zaniboni cioè non riescono a ammazzare Mussolini oppure fortunati ma tutto quello che succede dopo per tutti i successivi 21 anni fino a luglio del 43 è tutto concentrato nelle mani di Mussolini che è il perno di una ruota dove però i raggi sono tutti come in una ruota obbedienti e si muovono come si muove il perno o viceversa perché non si può fare di Mussolini l'unico responsabile il perno gira secondo tutto il cerchio perché Mussolini nonostante le immagini che lui stesso dava dipendeva molto da come funzionava la macchina del regime nella periferia era assolutamente dotato di un potere arbitrario e indiscrezionale però se voleva dire al carro di continuare a procedere in senso inverso al perno non è che lui era così convinto che l'avrebbero seguito tant'è vero che lui fino al 26 è sempre il duce che segue non il duce che comanda anche questo è un dato che non nasce da una interpretazione da una comparazione nasce dalla documentazione uno non interroga i documenti quella cosa infelice di un grande maestro della metodologia come Henri Manrou e come molti altri lo storico deve porre domande ai documenti no lo storico deve solo ascoltare cosa gli dicono i documenti perché se cominci a porre domande tu hai già condizionato e selezionato e adattato i documenti alla risposta che ti aspetti questo è purtroppo quello che normalmente accade soprattutto sulla questione del fascismo che nessuno aveva notato che esisteva un'ideologia fascista nessuno aveva notato che esisteva un partito fascista nessuno aveva notato che Mussolini fino al 26 è il duce che segue e non il duce che guida cioè non è lui che vuole e ottiene e determina le varie fasi che scandiscono il passaggio da un movimento di zingari a un partito armato a un regime totalitario lui lo accetta lui lo asseconda ma non prende l'iniziativa di questi passaggi poi le prenderà le iniziative ma sempre tenendo conto condizionato da ciò che era anche il suo partito tutto questo però avviene attraverso la lettura dei documenti se tu dici che il fascismo è un regime politico che dura 23 anni ma gli neghi un'ideologia gli neghi una coerenza istituzionale gli neghi un potere effettivo perché dici ma c'era il re c'erano i capitalisti c'era la chiesa ma scusa ma loro perché lo chiami regime semplicemente era un'improvvisazione che di volta in volta che è quello che poi quella che chiama la defascistizzazione è avvenuto dopo il 1945 ad opera 46 a opera di post fascisti e post antifascisti cioè tranne il crudele Mussolini tranne il ridicolo starace e un'accolita di irresponsabili criminali il fascismo non esisteva lui mi regalò un libro sono dimenticato di portarlo del 1944 scritto da un antifascista appena liberato a Roma apri la copertina apri il fascismo non è mai esistito poi ho trovato una conferma a tutto questo perché nel quotidiano del partito d'azione in quello stesso anno chi dice il fascismo non è mai esistito è uno storico Paolo Alatri quindi il mistero del fascismo per cui ti costringe far nascere un topolire poi fargli partorire una montagna deriva dal fatto non esiste un fenomeno storico in nessuna epoca storica che sia passato dal non esistere all'eternità allora vuol dire veramente che c'è qualcosa che uno storico che modestamente ascolta i documenti e non gli pone le domande non ha capito niente non ha capito niente quindi diciamo per evadere anche la questione dell'eutanasia è chiaro che l'eutanasia però devi lasciare per ultimo lo lasciamo per ultimo l'eutanasia io direi siccome ci sono tante questioni su cui vorrei discutere con te non so se vogliamo cominciare anche a far vedere qualche fotografia le fotografie sono semplicemente io sono un cultore della visualità della storia perché noi leggiamo i documenti ma quelli che li scrivevano che avevano intorno a sé cosa vedevano e quello è importante io da bambino ero follemente innamorato di Liz Taylor nel film Torna a casa Alessi però intorno a me all'asilo all'elementare alla scuola del catechismo per preparare la prima comunione a me Liz Taylor non l'ho mai vista per cui per me viveva in un mondo squallido c'erano belle bambine ma non come Liz Taylor allora forse si riesce a capire anche poi che cos'è stata l'eutanasia di Mussolini ecco 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 ma poi ci torniamo alla fine ecco cioè uno vede questo no prima quella precedente sì questo è Benito Mussolini all'età di 20 anni nella prima foto segnaletica che gli fanno in Svizzera al primo arresto dicevo prima che la Svizzera è talmente precisa e puntuale nel seguire i suoi delinquenti che questa scheda in fondo c'è Benito Mussolini morto il 28 aprile 1945 con la con la amante Claretta Petacci quindi gli svizzeri però questo ha 20 anni sembra un animale braccato più un mafioso di quella generazione cattiva che non di quella più elegante di adesso e ha 20 anni siamo nel 1903 questo appena nove anni dopo è diventato il direttore dell'Avanti a 29 anni il più giovane dirigente politico dell'Italia dei partiti politici italiani una figura che sorpassa persino i vecchi leader sia quelli del massimalismo sia quelli del riformismo tant'è vero che in occasione di un processo in cui lui viene assolto l'Avanti gli dedica una cartolina come un santino i suoi avversari interni riformisti pur condannandolo per il suo estremismo rivoluzionario però riconoscono e lo scrivono e lo dicono che lui ormai era il capo idolatrato dalle folle dalle masse Reves dice ormai lui è l'eroe il santo il capo eppure denunciavano per questo e questo signore però noi lo vediamo appena due anni dopo anzi un anno dopo un anno e mezzo dopo questo è a Roma all'inizio del 15 che era diventato da grande rivoluzionario internazionalista antimonarchico diventa interventista patriota e nazionalista rivoluzionario in modo suo e viene ancora una volta imprigionato per le manifestazioni interventiste a Roma a proposito di quella foto di quanto aveva 20 anni non so se tu lo dici in passant ma potrebbe essere la prima volta che viene attribuito a Mussolini il termine duce perché nel 1904 la tribuna che era un giornale romano a proposito dell'espulsione che sarà avvenuta contemporanea a questa foto che avete visto dice che è stato espulso chiama Mussolini espulso dal cantone di Ginevra il grande duce della locale sezione socialista non solo aggiungiamo anche che in questo periodo in cui viene chiamato già da un giornale conservatore italiano che però sa che c'è stato questo grande duce della sezione socialista in Svizzera che è stato arrestato ed espulso non ha ancora deciso se la sua vita sarà quella di un politico di professione perché in tutte le lettere che scrive ai suoi amici di allora dice che lui è un nomade nel 1909 va come redattore capo e direttore dell'avanguardia e segretario nel Trentino e poi redattore del giornale il popolo di Cesare Battistico dice beh ormai è un politico avviato alla carriera politica no lui scrive ad un amico do anche lezioni di francese e spero che possa farlo così bene che lascio il segretariato del giornale e lui che persino quando a Forlì lo nominano dirigente dei socialisti forlivesi lui crea e dirige una lotta di classe continua a scrivere a suo amico quello a Forlì ci sta stretto che lui è un nomade lui è fatto per l'avventura nel 1919 alla vigilia di fondare il movimento fascista va dagli operai che scioperano a Dalmine avevano messo la bandiera tricolore e mica gli dice io sto fondando un movimento lui dice bravi se così lavoro con la patria io vi dico questo ma non mi importa quello che voi pensate sono un cinico e preferisco rimanere solo insomma né Lenin né Hitler una volta scelta la vocazione politica uno a 18 anni l'altro a 33 anni come Gesù però in un campo ovviamente molto diverso Hitler non ha mai manifestato nessuna intenzione politica prima che scoprisse di essere un grande oratore e anche lì il caso lo fa diventare autoconsapevole di avere un potere da usare politicamente Mussolini fino al 1900 1919 non ha ancora scelto definitivamente pur avendo fatto la carriera politica perché il padre solo quello gli aveva aperto avanti gli aveva fatto leggere i sunti di Marx e la politica socialista fin da quando era un ragazzino lui fa politica perché deve vivere ma non fa politica perché ha una vocazione di qualsiasi genere quella poi gli verrà quella poi l'utanasia gli verrà in 23 anni di potere in cui lui progressivamente io dico che in lui ci sono due personalità che agiscono sotto l'influenza di due autori uno è Machiavelli l'artista della politica cioè il politico è uno che manipola l'umanità per creare qualcosa di cui lui poi è l'artefice e l'altro è Nietzsche cioè colui il quale dice viene siamo alla vigilia dell'avvento del superuomo e bisogna prepararlo con gli spiriti liberi e lui è così ci sono due personalità in Mussolini che se lo seguiamo fino al 1943 sempre di più viene avviluppato in questa sua visione di se stesso come l'artista della politica l'altro grande artista per lui era Lenin l'artista della politica che prende una massa il popolo italiano e lo forgia e lo trasforma lo rigenera lo fa diventare da una massa di individui per 14 secoli lo fa diventare un popolo guerriero una nazione militare e militarista poi durante la guerra scopre che come artista della politica tutto gli sta frantumando e come artefice di una nuova umanità non supera l'esame della storia quello che Mussolini dichiara continuamente dal 1923 è che lui deve forgiare il nuovo carattere degli italiani da qui nasce il razzismo e l'antisemitismo prima ancora che l'Etiopia o la Germania nazista e poi quella cosa ancora più grave che lui deve trasformare il carattere italiani in una razza guerriera e in un discorso che fa nel 1942 dice il 1943 è l'anno decisivo in cui il popolo italiano dimostrerà se è diventato veramente duro è tutto quello che lui aveva immaginato da 23 anni non succede niente di tutto questo quest'uomo che era arrivato all'apice della grandezza con la conquista di un impero e che aveva proclamato sia negli scritti dottrinali la guerra e la madre del mondo sia lo dice in questo discorso alla lista delle prime sconfitte la guerra e il tribunale di cassazione dei popoli a quel punto viene bocciato si rende conto che è stato bocciato e esce dalla storia l'eutanasia c'è una frase che a me mi ha illuminato per un certo intuito psicologico probabilmente non vale niente come intuito psicologico ma Mussolini nel 1932 nei colloqui con Ebi Ludwig Ludwig a un certo punto vede che Mussolini ha sul tavolo ovviamente ostentato il Giulio Cesare di Shakespeare però in francese e così comincia a parlare con Mussolini di Cesare e Mussolini a un certo punto come se si concentrasse meditasse qualche cosa dice ma perché non volle leggere cito quasi a memoria la lista dei congiurati forse perché no perché non impedì che lo uccidessero forse perché sapeva di essere un uomo finito è curioso che Mussolini quando scrive sinceramente i pensieri Pontini e Sardi cioè esattamente un mese dopo che è stato defenestrato e arrestato prima a Ponza e poi alla Maddalena primo non parla di congiura secondo non parla di complotto sempre a proposito del 25 luglio di tradimenti terzo non dice che li ha avvertiti che era il crollo del regime ma fa delle riflessioni su se stesse come capo e comincia col dire che il crollo del regime è cominciato con El Alamein 23 ottobre del 42 da allora la fortuna mi ha girato le spalle o ha sperato tanto in una vittoria ma non c'è stata queste sono le sue riflessioni addirittura con una frase con la quale inizia i suoi pensieri alla maniera di un frammento dei sofisti greci su per giù così Paolo forse me lo può citare più correttamente tutto quello che è accaduto doveva accadere perché se non sarebbe accaduto perché se non doveva accadere non sarebbe accaduto su per giù e questa è la frase di un Mussolini che all'inizio di agosto del 1943 riflette su quello che egli è accaduto e sa dire solo una cosa forse sono stato ma come le parare sono stato un sognatore è curioso lui ripeterà questa frase continuamente quasi in ogni lettera a Clara Petacci durante la Repubblica Sociale in un totale stravolgimento del rapporto che lui mantato anche dagli storici come un realista terra terra continua a dire hanno distrutto Roma il nostro sogno di grandezza è accaduto io sono stato un sognatore e alla fine conclude il febbraio del 45 dicendo eutanasia progressiva ma con qualche sbalzo di desiderio di vivere ancora o di ludersi ancora a Clara Petacci scrive ancora dei tre regimi totalitari due hanno dimostrato di essere capaci fino in fondo di resistere quello nazista e quello comunista l'italiano no ma non è il fascismo che ha guastato gli italiani sono gli italiani che hanno guastato proprio su questo volevo interromperti perché secondo me per uno che voleva trasformare gli italiani in un popolo di superuomini mi rimaneva solo l'eutanasia eh sì perché questa è la parte politica è la parte più per certi versi come posso dire vile in una certa misura infame diciamo di cioè il far ricadere la responsabilità della fine del fascismo e del regime e quindi della sua personale fine politica sul popolo italiano lui lo ripete varie volte in modo estremamente pesante comincia dal 41 comincia dal 41 cioè appena cominciano le sconfitte Mussolini cheppure sapeva dell'impreparazione militare dell'Italia cheppure sapeva che era troppo presto e non si sarebbe dovuta fare quella guerra sapeva tutto questo tuttavia non riflette non tira fuori non dice questo dice sono i militari italiani sono i soldati italiani che non sono in grado di fare quello che dovrebbero fare c'è quell'inciso sul fatto che a un certo punto si parla degli appennini e del clima rigido degli appennini e lui dice mi piacerebbe che il clima fosse sempre più rigido perché è l'unico modo e muoiano se devono morire i bombardamenti di Napoli è bene che il popolo italiano impari la vita sui bombardamenti di Napoli dice quello è un modo per educarli visto che non siamo finora non sono riusciti a farsi educare come noi volevamo educarli a questo punto io però andando avanti al limite non so se tu hai qualche foto dei dei segretari questo posso lasciarvi seguire l'evoluzione del fascismo dal 1919 questo è il 23 marzo sì no perché c'è un punto su cui io vorrei tornare che a me sembra importante perché qui in fondo stiamo prima di passare perché io poi volevo parlare un po' di questa duplicità di Mussolini e anche delle diarchie nel fascismo ma prima tu hai toccato un punto in fondo noi stiamo in qualche misura cercando di sconfessare dei luoghi comuni sulla fine del fascismo e anche in un certo senso una serie di luoghi comuni sull'inizio uno che ha molto attecchito e che ha qualcosa a che fare con un altro termine che bisogna prendere perché è come lo tocchi scotta che è mussolinismo riguarda il fatto che Mussolini è diventato Mussolini relativamente tardi fino almeno al 3 gennaio del 25 non so potremmo fissare Mussolini è uno tra altri e ci sono altri che decidono più e a volte contro e forzando Mussolini e questo in genere non filtra anche dalle biografie che pure ci sono ma non viene fuori cioè Mussolini in questi primi anni ripeto fino al e anche poi col 3 gennaio 25 perché la decisione del 3 gennaio 25 lui la prende perché poi ha intuito che era anche l'unico modo per uscirne dalla crisi Matteotti lui la prende perché viene forzato dal partito milizia cioè viene forzato dallo squadrismo questo dna del fascismo su cui il fascismo ha costruito il suo successo e che come tu dici tante volte poi rimane come dna è ineliminabile è un qualcosa fino alla repubblica sociale poi adesso stasera non parleremo magari di repubblica sociale però quello che invece è interessante è che il primo Mussolini diciamo non è solo Mussolini anzi è per esempio Michele Bianchi cioè chi decide di fare quel capolavoro tattico che è stata la marcia su Roma che ha consentito a Mussolini di venire in vagone letto da Milano a Roma e farsi nominare capo del governo è Michele Bianchi non è Mussolini ovviamente in questo libro ci sono tutti i segretari del partito io non so chi di voi si ricorda che il primo si chiamava Tilio Longoni il secondo Pasella già è un nome un po' più noto poi ci sono quelli non è un caso ci sono segretari del partito più stabili nella fase centrale del regime e ci sono invece segretari del partito che ruotano rapidamente all'inizio e alla fine i giovani finali anche con delle cose interessanti ma insomma sono nomi meno rilevanti però mi sembra importante sottolineare che l'impresa fascista squadrista il partito milizia non è di Mussolini non è solo di Mussolini e in certi casi non è soprattutto di Mussolini è come la fortissima ondata del consenso del fascismo si diffonde a macchia d'olio con quella rapidità anche numerica che ricordavi prima e che non riguarda Mussolini Mussolini se ne sta a Milano o non va a Cremona a vedere direttamente cosa faceva Farinacci se ci va ci va per come dire mostrare che lui è il capo del fascismo ma quelle migliaia di persone che vengono decine di migliaia di persone che sfilano in corteo e che lo applaudono non sono sue sono di Farinacci e questo vale per la gran parte dei gerarchi quindi è molto importante capire che se no c'è una riduzione il fascismo è fondo Mussolini poi c'è il mussolinismo che diventa anche poi un alibi per giustificare Mussolini in fondo aveva ragione quello che lui pensava era giusto ma c'erano intorno a lui i cattivi che lo condizionavano questo è filtrato anche nell'opinione pubblica e invece è importante capire che il fascismo proprio per essere riuscito ad imporsi così come si è imposto al di là della fortuna o delle capacità tattiche e anche delle capacità politiche di Mussolini però è un'impresa corale cioè è un'impresa di un gruppo dirigente squadrista poi questi squadristi alcuni si riveleranno più capaci di fondare un giornale di scriverci avranno culture diverse e variegate però mi sembra molto importante sottolineare che non è solo Mussolini che probabilmente senza Michele Bianchi Mussolini capo del governo non ci sarebbe stato non so se è eccessivo questo proviamo a fare un tentativo di storia comparativa biografie parallele per uno che non ci crede è sicuramente disastroso però le date non sono confutabili né i dati Lenin crea il gruppo bolshevico nel 1903 nel 1912 fonda il partito nel 1917 lo porta al potere nel 1924 lui muore e rimane il partito bolshevico ma Lenin è sempre il capo sempre il capo dall'inizio alla fine Hitler entra quasi casualmente in un partito e nel 1920 però ne diventa il presidente dittatore del partito nazionalsocialista dei lavoratori tedeschi e lo rimane fino all'8 maggio quando si suicida l'8 maggio 1945 Mussolini è stato mai ha mai avuto ufficialmente il ruolo di Lenin o di Hitler nel partito fascista prima della marcia su Roma mai Lenin controllava quei pochi 4-5 manipoli di bolshevichi li controllava personalmente per tutto ciò che facevano e dove lo facevano Hitler quando prende in mano il partito fa il giro della Germania avendo scoperto che è un autore di grande successo per moltiplicare le sezioni e gli aderenti Mussolini non si muove da Milano non fa propaganda e quando parla parla di politica estera ma è interessante perché quando poi nasce il movimento dei fasci di combattimento quello che ancora si legge nel libro il popolo d'Italia rimase il giornale di Mussolini che si occupava principalmente di politica estera perché il movimento dei fasci di combattimento che aveva un proprio segretario Mussolini era un membro della commissione esecutiva cioè uno dei tanti non era chiamato Duce ma il compagno Benito Benito al massimo il professor Mussolini che comunque aveva la licenza per insegnare il francese ma è il fascio l'organo dei fasci di combattimento è un settimanale che dal giugno del 2019 fino all'agosto del 21 ha un simbolo che non è anche il fascio littorio ma è un fascio di spighe e che addirittura proclama qui siamo nel 1920 per la dittatura di un partito mai erano democratici repubblicani suffragio universale uomini e donne 18 anni ma che scherziamo a 25 anni 18 anni però quando comincia il primo squadrismo non è il popolo d'Italia che annuncia la guerra civile è il fascio se la guerra civile ha da essere ebbene sia lo squadrismo cioè ciò che poi diventa non solo l'armata ma la mentalità la cultura l'ideologia potremmo dire il tipo antropologico del fascista nasce indipendentemente da Mussolini per iniziativa spontanea di giovani l'elemento comune era la guerra l'interventismo la guerra l'odio per il socialismo e l'odio per la democrazia liberale e l'odio generazionale per quelli che comandavano oltre i 40 anni questa diventa una massa potente e Mussolini qui abbiamo una rarissima fotografia in cui lui va a parlare a Cremona perché quando vede che quel movimento che porta il nome del movimento da lui fondato ma che è diventato non lui ancora nel dicembre del 1920 dice noi siamo gli zingari della politica non vogliamo vivere in eterno quando scopre che ci sono 150.000 fascisti armati lui va a parlare come a dire oh io sono papà vostro sono io vi ho generati io e questi gli dicono no perché lui vuole che ora che sono diventati un partito potente grazie alla violenza e la violenza ha ottenuto il suo scopo distruggendo tutto ciò che sopravviveva dalle organizzazioni socialiste e proletarie e poi anche popolari e poi anche repubblicane e dominavano incontrastati con le armi in maniera dittatoriale in gran parte dell'Italia settentrionale e centrale Mussolini vuole fare la pacificazione filma la pacificazione e questi i veri artefici del fascismo fino alla marcia su Roma è uno di quelli che poi lo affosserà Dino Grandi e Italo Balbo i quali dopo il patto di pacificazione quando Dino Grandi promuove e fa il portavoce della ribellione degli squadristi contro Mussolini chiamandolo traditore hai tradito i socialisti adesso tradisci i fascisti e lui si dimette e lui dice che combatterà il fascismo come lo ha creato lo distruggerà perché non è più un movimento di libertà ma di oppressione come sapeva fare Mussolini in quelle circostanze lui rischia di fare la fine che aveva fatto nel 1914 dopo che aveva tentato di convincere i socialisti all'interventismo i socialisti non lo seguono i fascisti non lo seguono aveva addirittura preparato un progetto di partito lavorista per i ceti medi in cui doveva nascere il fascismo che doveva lanciare una proposta di alleanza governativa con i popolari e con i socialisti riformisti gli squadristi dicono no adesso comandiamo noi e non c'è pace fino alla fine dei socialisti dei popolari e della democrazia lo dicono apertamente e Mussolini è costretto a cedere il partito fascista non nasce perché lo vuole Mussolini nasce perché lo vogliono gli squadristi e lo vuole Michele Bianchi che diventa il segretario del partito nazionale fascista com'è che Mussolini non si fa nominare Duce non esiste ancora il Duce comparirà è un termine Ciano ricordava che l'uso la tribuna ma è un termine che usavano normalmente i socialisti romagnoli e poi pure Garibaldi era Duce Duce in Italia era nome comune di chi comandava non rappresentava nulla nulla e Mussolini comunque non era chiamato Duce quindi vedi qui c'è un grande paradosso questo è l'Italia che controllano gli squadristi non Mussolini ecco l'Italia degli squadristi quindi diciamo come vedete anche dalla cartina geografica a parte alcune zone limitatissime meridionali lo squadrismo è attrazione emiliano-romagnola si potrebbe dire no? arpinati grandi balbo rossoni cioè sono questi gli uomini tu adesso stavo per dire poi c'è il no più netto è quello alla pacificazione al patto di pacificazione con i socialisti gli dicono sempre no quando lui cerca di attrarre qualche sindacalista confederale nel suo governo cioè Mussolini allora questo è il paradosso cioè è possibile che sia stato proprio Mussolini a non capire fino in fondo la natura del primo fascismo cioè il carattere di partito squadrista militante che che privilegia l'azione immediata il manganello l'olio di riscino rispetto a qualunque discorso a qualunque dialogo a qualunque rapporto con chi che sia cioè sembrerebbe che sia stato addirittura in questi primi anni sia stato lui a non capire fino in fondo la vera natura di quello che lui che poi era anche abile a recuperare ovviamente perché quando entra alle elezioni del 21 con Giolitti voglio dire viene comunque considerato e acclamato come capo in qualche modo però nonostante il fatto che gli si dica no però questo non lo devi fare il patto di pacificazione non lo devi fare lui probabilmente io ho azzardato l'ipotesi che lui avesse una capacità retorica di conquista delle masse con i suoi discorsi superiore a quella degli altri e lì forse a un certo punto recuperava altrimenti non si spiega questa relativa ambiguità lui che non capisce la vera natura squadrista del fascismo e gli altri che gli dicono no più volte il patto di pacificazione è un momento in cui Mussolini potrebbe saltare insomma non ci sono dubbi su questo aveva probabilmente in testa un altro sviluppo in realtà che cosa sono gli squadristi lo sanno e lo capiscono solo gli squadristi e sanno di essere una minoranza che ha fatto la guerra di giovani che hanno scoperto questa capacità di usare l'esperienza della guerra per distruggere con la violenza organizzata sistematica e metodica una costruzione poderosa di 30 anni di socialismo e di organizzazione sindacale quello che è la novità del fascismo in ogni senso che lo stacca da qualsiasi altra esperienza e da qualsiasi tipo di eternità e la sua temporalità collegata alla guerra il fascismo è un fenomeno che nasce dalla guerra e gli squadristi sono quelli che più immediatamente adoperano il metodo della guerra cioè l'avversario non esiste esiste il nemico e il nemico va eliminato con qualsiasi mezzo e sono questi che creano la forza armata del fascismo ma non sono solo quelli che fanno manovalanza armata sono quelli che hanno una mentalità che hanno una mitologia si sentono ancora i camerati della guerra uno stile di vita che Mussolini non capisce perché Mussolini si è formato nell'ambiente socialista e anche se capiva l'importanza dei miti la funzione della retorica era rimasto in un certo senso collegato ad una formazione politica che però poi viene sempre incanalata nell'organizzazione nella disciplina ma di tipo tradizionale se voi leggete lo statuto del partito del lavoro che lui progetta fin dal 1918 vedete che un partito laborista nel quale potevano entrare tranquillamente i sindacalisti cioè tutti i riformisti laici la discriminante lui non capisce che quel metodo di violenza è diventato uno stile politico una mentalità politica non lo capisce perché non ha partecipato a tutto questo lo ha considerato solo quella che lui chiama la violenza chirurgica ma se noi leggiamo tutte le argomentazioni che lui adopera per convincere questa massa ad accettare il patto di pacificazione sono quelle di un vecchio uomo politico il patice no ma badà adesso basta insomma guardate qua la violenza però ci allontana i consensi non capisce nulla di che cosa sono quegli squadristi ed ecco perché lui si trova di fronte ad una situazione che dimostra la sua inadeguatezza al momento perché sta rischiando e molto peggio di essere per la seconda volta bollato come traditore è mandato via dalla scena politica quando è che lui recupera quando accetta integralmente tutto piano piano capisce che cosa significa e siccome era un animale politico nel senso di un animale da preda assorbe immediatamente queste novità e se voi vedete proprio i suoi discorsi lui non parlava mai di romanità non parlava mai di disciplina di gerarchia appena nasce il partito fascista ma che non crea lui perché non è altro che la trasformazione politica voluta dagli squadristi e da Michele Bianchi soprattutto allora lui capisce che c'è una nuova realtà e qui vengono fuori le sue doppi personalità l'artista della politica questa nuova realtà io non la posso manipolare come voglio però se non ci sono io che sono l'unico capo l'unica figura nazionale questi si disperdono noi non consideriamo questo aspetto sempre con senno del po' diciamo ma quello è un fascismo la violenza no Mussolini in quella massa di 200.000 fascisti armati che comunque dominavano in questo modo l'Italia nella totale impotenza dello Stato o inerzia o complicità lui è l'unica figura nazionale insieme a Michele Bianchi perché erano in politica come figure nazionali da prima della guerra lo erano stati come interventisti e lo erano ancora Mussolini aveva un giornale nazionale il fascio era lo leggevano pochissime aveva bassissima circolazione tant'è vero che gli squadristi in quel momento tentano di avere un capo all'oro adeguato che li capisca psicologicamente idealisticamente mitologicamente e vanno ad annunzio gli offrono la guida del movimento fascista e d'annunzio ormai si sente politicamente a parte il fatto che non voleva assolutamente cavalcare lo schiavismo agrario come lui lo definì che era il fascismo ma non se la sente proprio di mettersi con questi imberbi altro senno del poi erano tutti ragazzi che nel 21 grandi bottai non vengono neanche eletti deputati perché non hanno l'età ma sono già capi locali ma sono capi locali non è che due personaggi grandi come D'Annunzio e Mussolini politicamente in campo nazionale davano molto credito alla capacità di questi ragazzi di poter sopravvivere e in questo invece la capacità ce l'hanno perché hanno la forza la violenza l'organizzazione militare e di fronte a sé l'incapacità degli altri partiti nemici di trattarli come nemici invece come di avversari come dicevi questo accenno lo schiavismo agrario in base al quale per fortuna di Mussolini D'Annunzio rifiuta l'offerta che gli viene fatta mi fa dire ma non so se si può dire che c'è in tutto questo una sorta di frattura tra un fascismo cittadino e un fascismo delle campagne un fascismo agrario in fondo Mussolini era sempre stato in città era sempre stato con Cesare Rossi non a caso quello che pensava ad un partito di sceti medi e non con l'esperienza delle campagne io e te abbiamo contribuito con due saggi coordinati ad una storia di Cremona Emilio ha fatto Farinacci e quindi nella sua dimensione nazionale perché poi Farinacci ovviamente come sapete perché qui vengono i nomi dei segretari più noti insomma diventa segretario del partito dopo il 3 gennaio e io ho fatto invece la storia sociale di Cremona e devo dire la cosa che mi ha colpito di più studiando questa dimensione locale ma lo dico anche perché ho letto ovviamente ampia bibliografia su altre dimensioni locali e nel tuo libro ho trovato uno straordinario riflesso di questa considerazione che riguarda i primi anni anche negli anni successivi perché questa cosa rimane a livello di dimensione sociale del fascismo che mentre gli esercenti piccoloborghesi comunque ci sono sempre dei problemi gli operai ovviamente che hanno una loro tradizione anche lì ma la cosa più spettacolare è il ribaltamento del consenso a favore dei fasci nelle campagne cioè l'area contadina il mondo agricolo è una dimensione proprio in cui ovviamente lo sappiamo anche per l'errore della sinistra di voler bracciantizzare i contadini trasformarli in operai della terra e i contadini non vogliono essere trasformati in operai della terra quindi sono degli errori enormi però la cosa che mi colpì di più proprio a Cremona ma credo che sia un fatto più generale è questa cioè nel giro di meno di un anno tutto il consenso dei contadini e delle campagne si trasforma radicalmente e va al fascismo cioè questa e ci sono nel tuo libro a un certo punto in anni successivi però questo elemento ritorna cioè ancora nel fiduciare che dicono sì il fascismo ovviamente ormai è solito però magari ancora tra gli operai Simogugna ancora c'è i contadini consideriamo un dato sociologico fondamentale per capire l'esplosione dello squadrismo fascista così improvvisamente tra il 1911 e il 1921 c'è un trasferimento di proprietà principalmente nella Valle Padana e principalmente nelle regioni dove esplode il fascismo a cominciare dal Veneto poi la Romagna poi la Toscana in cui nascono attraverso l'acquisizione della proprietà della grande proprietà che si disgrega per la perdita dei redditi poi per la guerra e diventano proprietari i braccianti a volte i mezzadri gli affittavoli cioè contadini senza terra un milione più di un milione diventano proprietari fino al 1921 considerate che diamogli un figlio maschio a ognuno di questi proprietari uno o mezzo e sono 500.000 figli di proprietari i cui nonni erano braccianti ma diventano proprietari mio nonno contadino quando qualcosa si discuteva eccetera tornato dagli Stati Uniti acquistava terra stringendo la mano da tutti quanti nonno che ci fai con tutta sta terra il contadino deve avere la terra propria ora credo che l'errore principale dei socialisti è quello di promettere la bracciantizzazione a chi bracciante già era e la bracciantizzazione a chi operaio a chi proprietario era e tale diventava se uno guarda quel poco non sono numerose ma tutte le biografie di gran parte di questi capi squadristi sono tutti quelli che nascono in questo ambiente dove sono pronti giovani poi guardate anche la presenza dei giovani nei primi fasci guardate la presenza e l'aumento dei diplomati e laureati in quel periodo per cui avete tutto un fenomeno di mobilitazione sociale che non può non riconoscersi nel fascismo primo perché molti di questi hanno fatto la guerra e che l'abbiano voluta o no si immedesimano con la nuova Italia che ha fatto la guerra e l'ha vinta questo è un particolare che sfugge come se fosse stato veramente una vittoria mutilata una vittoria piena totale completa e sono colori i quali hanno il loro principale nemico le famose baronie rosse di cui parlava pure Togliatti cioè di colori i quali col sistema delle leghe dal 1911 12 avevano praticamente dominato il controllo dell'attività agricola e commerciale nella pianura padana l'odio che hanno per il leghista il capolega quello che imponeva il boicottaggio a chi non si sottoponeva che era poi un sistema molto sommato non violento per esercizio fisico ma violento per isolamento cioè chi è boicottato è fuori dalla grazia di Dio non può persino i preti non potevano fare i funerali al boicottato però era il sistema per dare il lavoro ai milioni di braccianti l'altro fenomeno che fu notato quasi immediatamente da Gramis è che purtroppo i capilega avevano la retorica della violenza ma non la pratica tranne che appena arriva l'ondata squadrista gran parte dei capilega diventano dirigenti dei sindacati fascisti è un processo è un travaso totale è un travaso totale che però rimane rimane condizionato dal fatto che questo movimento fino al 22 ha soltanto un dominio territoriale quello che ha sviluppato la mentalità squadrista è noi a questo punto siamo lo Stato noi vogliamo diventare lo Stato e quello che a Hitler costerà 14 anni è solo di via elettorale la cosa sorprendente del fascismo che non ha paragoni in nessun altro tipo di sommovimento rivoluzionario per cui un partito si impossessa di uno Stato e lo trasforma nel giro di due anni solo dalla sua nascita è dovuto principalmente al fatto che è un partito armato che opera l'esperienza della guerra e la mentalità di dominio totale che lo Stato aveva assunto durante tre anni quattro anni cinque anni di guerra questo sfugge completamente a chi va cercando attraverso comparazioni o interpretazioni un fatto generazionale che porta come si può pensare che questo milione di nuovi proprietari che diventano trecentomila fascisti armati di fronte a uno Stato debole e incapace che è governato da queste persone da queste persone ma pensate a vedere voi voi siete dei giovani avete fatto la guerra siete figli di proprietari i socialisti non vi vogliono e chi vi comanda un ottantenne un settantenne circola questa fotografia di Mussolini ma pensate che impatto immediato di comunicazione politica chi è la nuova Italia chi ha la faccia di quello che comanda questo o questo qua che pure in fatto di arti del comando ne sapeva ma moltissime arti del comando tant'è vero che è stato al governo quasi ininterrottamente per dieci anni e lascia un luogotenente e fa questo è Luigi Facta colui il quale avrebbe dovuto arginare fermare bloccare annientare le armate fasciste e forse ci sarebbe riuscito perché Mussolini tutto sommato fino alla fine fino al 27 ottobre tratta segretamente con Giolitti con Nitti con Salandra con Orlando si accontenterebbe di entrare e il massimo che chiede sono 5 4 5 ministeri importanti e io non ci voglio entrare però non ci voglio entrare di nuovo Michele Bianchi chi lo sfinge perché mette in moto la macchina prima ancora che Mussolini dicendo no qua il presidente del consiglio deve essere Mussolini è Michele Bianchi questo signore qui che casualmente in questa fotografia della preparazione della sfilata della marcia su Roma o probabilmente può essere anche Napoli 24 ma è più la marcia su Roma è Michele Bianchi è lui che lancia il nome di Mussolini quando Mussolini tutto sommato sarebbe andato anche volentieri con Giolitti tratta principalmente esclusivamente sostanzialmente solo con Giolitti fino alla sera del 27 ottobre chi fa sfasciare la trattativa e impone una insurrezione che è più un ricatto che non una azione insurrezionale e che ha però successo è Michele Bianchi perché mentre Mussolini tratta dice no non c'è bisogno era già uscito un giornale Salandra no no presidente chi ha provocato la crisi e il fascismo chi deve governare è Mussolini è lui che fino alla fine e io ho trovato un documento in archivio che ho pubblicato credo vent'anni fa ma è passato totalmente inosservato a questi studiosi che profonditamente cercano di interpretare di comparare non di leggere i documenti il 10 giugno 1924 Bianchi temendo di fare la fine di Rossi o di Marinelli o di qualcun altro per il delitto Matteotti scrive a Mussolini una lettera in cui dice caro Duce qui le cose ricordati che sono stato io che ho voluto il partito fascista che sono stato io che ho scatenato la rappresaglia dopo lo sciopero egualitario e tutti voi dicevate che ero matto e che il 24 e il 26 ho stato io mentre voi tutti quanti stavate ancora tentennando che ho lanciato il tuo nome e ho imposto la tua candidatura questo documento ci sta non sta scritto cretino non inventare nulla perché fra l'altro i documenti non si scoprono si cercano e poi si trovano poi a volte sono buoni e si fanno trovare altri sono cattivi e non si fanno trovare il telegramma col quale Mussolini ha ordinato l'omicidio di Matteotti fu trovato scherzosamente da Mario Missori e lo fecero vedere non mi ricordo a Filcannistraro ad uno studioso che era in frattura dice guarda qua li lo fecero trovare tra le carte questo mi fu raccontato non l'ho visto vide sto telegramma che era su telegramma carta d'epoca c'erano ancora pare che questo qui cominciò a girarsi intorno perché hai visto sto foglio lo metti in mezzo a un altro foglio vuole andare non ebbe l'infarto però voleva andare a fotocopiarlo non sapeva come fare e poi alla fine visto che l'emozione era tale che poteva trasformarsi in una patologica delusione sia Mario Missori che Filcannistraro carissimo amico di entrambi gli dissero ma ti pare che Mussolini faceva un telegramma e lo firmava e si convince che non gli stavano sottraendo il telegramma quindi da questo punto di vista tornando alla storia del fascismo non c'è possibilità di instaurare nessun metodo comparativo o interpretativo che non tenga conto di alcuni fatti ormai accertati documentati e come si può dire inconfutabili perché fanno saltare qualsiasi comparazione perché non è possibile stabilire quali siano le analogie le somiglianze fra nazismo e fascismo se non partiamo dalle origini che vedono da una parte un movimento inventato a marzo defunto a dicembre dominatore un anno dopo al potere un anno dopo e dopo due anni totalmente impossessato di uno stato che comunque aveva un esercito che era molto più forte con un regime un partito nazionalista che impiega 14 anni dal 1920 al 33 13 anni ma lo fa attraverso il metodo elettorale non esiste nessun altro partito di destra armato come il fascismo che negli anni fra le due guerre conquisti il potere in così breve tempo con tanta rapidità e poi però si devono leggere anche quelle codice eh ma il fascismo però ci ha messo cinque anni per dare il partito unico Hitler l'ha fatto in tre mesi e grazie quelli che avevano conquistato il potere in sei mesi neanche sapevano come dovevano procedere e quindi e lì c'erano molte situazioni nelle quali potevano prendere una via verso la fine e lì vanno ricostruite le deliberazioni le scelte le iniziative dei singoli individui che a volte hanno un ruolo decisivo e quello che ottengono è straordinario cioè questo maestro di scuola con 15 mesi si è no di camera dei deputati senza aver neanche forse per tre mesi consigliere comunale socialista a Milano 39 anni 39 anni senza aver neanche amministrato un condominio dopo due anni che stava per essere sbattuto fuori dalla politica anzi dopo un anno agosto del 21 definitivamente diventa il presidente del consiglio della quarta potenza internazionale del mondo che tre anni prima aveva partecipato alla pace di Versailles accanto a Stati Uniti Gran Bretagna Gran Bretagna Francia e poi un po' si dedo che fuori Giappone è una cosa che non si può spiegare con l'opportunismo con la viltà del re e tanti altri giochini in cui sicuramente la personalità ha contato molto però c'è la personalità di chi decide e osa e c'è la personalità di chi ha fiducia e aspetta la sera del 27 ottobre quando il generale pugliese ha già bloccato le ferrovie per la via d'accesso degli squadristi che si stanno già mobilitando per marciare su Roma il generale pugliese va dal capo della polizia al ministero degli interni e dice dovete bloccare sì ma datemi un ordine scritto per favore vabbè poi lo chiede a Ferrari lo chiede a Taddei no io voglio l'ordine scritto io già ho fatto bloccare ma se devo reagire voglio l'ordine scritto mezzanotte vabbè da generale andiamo a dormire tanto i fascisti prima di domani alle 7 non si muovono mentre i fascisti marciavano su Roma e Bianchi imponeva il nome di Mussolini il ministro Taddei va a dormire Fakta va a dormire il re che è tornato precipitosamente da San Rossolo va a dormire poi alle 3 la mattina questo ce lo racconta non un testimone sospetto Aldo Rossini non fascista ma sottosegretario mi pare del governo Fakta vanno di corsa da Fakta che stava dormendo all'hotel London che credo non si sta più e lo trovano faceva freddo lo trovano con il suo vestito addosso cioè sotto le coperte ma con gli abiti addosso questo uomo che doveva decidere la salvezza dell'Italia e dello Stato liberale non aveva osato neanche chiamare una cameriera o un cameriere per farsi dare una coperta e lo avvertero che i fascisti stanno marciando si sono già ammassati e lui dice Aldo Rossini dice beh beh mettiamoci col chiamamento con il ministero degli interni e no io li ho mandati tutti a dormire perché erano tardi poi dalle tre comincia convulsamente la riunione del consiglio dei ministri stato d'assedio ma le ore precedenti sono queste dello Stato liberale non grandi processi storici non grandi strategie di classe o viltà o carattere degli italiani c'erano degli uomini che avevano la responsabilità e i mezzi per fare quello che era necessario fare e non l'hanno fatto ma per tutta una serie di ragioni non lo fecero andarono a dormire cosa che succede prima di domani non succede niente cosa che succede ovviamente mutatis mutandis anche l'8 settembre del 1943 ma questo è tema di altri convegni che faremo prossimamente la sera del 25 luglio e la sera del 25 luglio allora ascolta Emilio siccome sono le 6 e mezzo e noi possiamo stare qui fino alle 7 voi siete stremati 7-7 e mezzo no beh e allora io ovviamente adesso andiamo anche perché vorremmo lasciare eventualmente la possibilità di fare qualche qualche domanda qualche intervento dal pubblico allora io vorrei toccare alcuni altri punti magari rapidamente intanto dirvi una cosa che l'inviato speciale che abbiamo mandato in quegli anni non interroga soltanto e prima ovviamente interroga primariamente i protagonisti fascisti ma interroga anche altre fonti e in particolare cosa che Emilio ha già fatto in libri precedenti si serve dei commenti di giornalisti e intellettuali stranieri che giudicano la realtà italiana spesso pigliandoci a fronte della cecità di tanti italiani perché noi sappiamo l'abbiamo detto in tutte le nostre lezioni con gli studenti l'incapacità della classe dirigente liberale di capire che cosa era il fascismo è uno degli elementi cardine del successo del fascismo e della sconfitta della classe dirigente liberale questo che è un acuto commentatore della marcia su Roma come fine della democrazia dice mi pare fosse un francese ma non ne sono certo gli eventi di quei giorni sono parte di una tendenza europea voglio farvi fischiare le orecchie per questo l'uscito di una tendenza europea incominciata con la grande guerra seguita dalla rivoluzione russa e può non concludersi durante la nostra generazione cioè andiamo avanti poi nelle generazioni successive ritorna spesso come peraltro ritorna spesso la testimonianza degli antifascisti o dei comunisti su quello che stava accadendo in Italia una cosa che mi ha sempre colpito studiando queste cose ma ancora più leggendo il libro di Emilio è che l'idea che avevano contemporaneamente Salvemini e i comunisti che ormai il fascismo fosse talmente forte che l'unica possibilità era praticare una sorta di entrismo cioè entrarci dentro e seguire dall'interno cercando in qualche modo di rovesciare i termini del consenso beh insomma questo per certi versi è una prova della pervasività e del successo da questo punto di vista della della politica fascista ecco a me suona suona così però da questo punto di vista di testimonianze altre che l'inviato speciale ha trovato quello che mi ha colpito veramente di più e su questo io ho l'impressione che non ci fossero nella nei tuoi libri precedenti è sono le testimonianze degli dei generali ispettori o degli ispettori generali dei carabinieri tu li avevi già usati no no mai la documentazione dell'arma dei carabinieri guardate ve lo dico questa è una parte allora azzeccata della neutralità dei carabinieri cioè questi capite perché si no devo dire io sono rimasto molto colpito adesso le voglio ritrovare qui perché mi ero segnato anche delle delle piccole cose che vi volevo quanto ci si fatica appena a spersonalizzarsi a usare la documentazione questi documenti io li ho consultati nell'ufficio storico dell'arma dei carabinieri nel 1989 ma non li ho mai usati con l'idea adesso faccio la rivelazione perché volevo capire come mai i carabinieri erano capaci di fare delle analisi del fascismo negli anni 28 29 e dicendo chiaramente che quel regime chiuso oppressivo rischiava di provocare con lungo tempo ho detto ma devi lavorare per cercare di capire come ragionavano i carabinieri e sono passati quanti anni 20 anni quasi 30 anni insomma però tanto ci hai ragionato non ho mai avuto il coraggio di utilizzare in nessun altro dei miei libri perché mi sembrava che non aveva senso fare la illuminazione improvvisa se tutto non veniva inserito in un contesto che fosse fatto allo stesso modo e sono cose straordinarie allora io questo veramente vi assicuro allora intanto ovviamente un generale un ispettore generale dei carabinieri è una figura per sua natura più facilmente equilibrata in quello che dice perché è contemporaneamente parte parte di un'arma che ha una sua lunga storia legata tradizionalmente alla monarchia e al re e non quindi particolarmente al fascismo e a Mussolini e devo dire le cose che tu hai fatto dire quando eri lì con loro come inviato speciale sì sono straordinarie il generale Poggesi nel 1928 quello che ha inventato il calendario del carabiniere il calendario del carabiniere a proposito di l'eccesso di pressione sui singoli che ovviamente il regime esercitava spesso legate ovviamente a dissidi vendette locali e personali lui dice questo crea qui noi adesso siamo venuti avanti nel tempo ma gli anni immediatamente precedenti sono anche anni di una crisi molto profonda del fascismo una crisi difficile da superare una crisi su cui ripetutamente Mussolini si è dovuto confrontare ed è stata molto difficile da superare perché nel fascismo c'erano queste anime diverse che poi come dire venivano richiamate con questi termini general generici i revisionisti da una parte gli intransigenti più filosquadristi dall'altra ma resta il fatto che una delle conseguenze di questa costante crisi del fascismo a livello locale provoca climi di sospetto dice il generale Poggesi toglie libero respiro alla nazione la chiude entro un muro di paura genera un senso vago di paura di diffidenza collettiva un cupo silenzio qui siamo nel 28 guardate siamo alla vigilia della celebrazione del decennale qualche anno dopo della presa del potere certo c'è la crisi economica dovuta alla quota 90 poi ci sarà quella dovuta alla grande crisi però insomma siamo a metà il fascismo è sostanzialmente consolidato allora un senso vago di paura di diffidenza collettiva un cupo silenzio che è talvolta più dannoso di un qualsiasi commento malevolo in quanto lascia fermento di rancore e di sfiducia che si sviluppano in profondità se non si espandono in superficie pensate questo generale ispettore o ispettore generale dei carabinieri quanto acutamente coglie questa realtà e aggiunge l'uniformità dei giornali non basta disperdere questo inafferrabile ma pur presente senso di timore e di disagio che non sarebbe pericoloso in sé se non creasse un ambiente pavido e amorfo che può facilmente saturarsi di scoraggiamento e di stanchezza questa è l'unica altra citazione che io voglio fare dalle 1300 pagine perché veramente questa è la parte più nuova e inedita del libro di Emilio e allora lui lui conclui forse di più lui conclude sempre sempre il generale Poggesi dice ora che il regime era consolidato e l'opera compiuta dal nostro capo invitto si impone all'ammirazione del mondo quindi vedete il generale dei carabinieri riconosce il successo il ruolo il potere il perno che Mussolini rappresenta se c'era un pericolo nel quale dal quale il regime deve guardarsi che mi sembra più grave di qualunque nefanda macchinazione comunista o di qualsiasi rabbiosa congiuretta di uomini del vecchio tempo sognanti nostalgici intrighi demomassonici e impossibili ritorni questo è che venga ad un tratto a mancare lo spirito di resistenza la continuità di resistenza del popolo nostro ad un pericolo reale per il regime qui è preveggente perché sarà proprio questo quello che poi accadrà cioè questo vi dice la forza dell'obbedienza ma i limiti del consenso va bene ad un pericolo reale per il regime il generale pensava considerando l'ora grigia che fa dibattere l'Europa in un intrigo di strettezze economiche e al fatto siamo tra la crisi di quota 90 e deve ancora cominciare la crisi la grande crisi e al fatto che il popolo italiano era facile agli entusiasmi ma ugualmente facile alle depressioni lasciandosi abbattere da ondate di sconforto per questo motivo paventava che sia la difficoltà del commercio alle preoccupazioni delle industrie al senso di malessere delle classi lavoratrici messe a contatto con la cruda realtà della vita spicciola col non ancora raggiunto adeguamento del costo reale della esistenza al mutato valore del denaro si aggiunge questo senso vago di disagio questa mancanza di coraggio e di speranza in un divenire sempre migliore si può facilmente creare il terreno ideale per la diffusione di previsioni non liete di oroscopi apocalittici sulle sorti del nostro paese qui è il pericolo questo è un generale dei grabbinieri che vi dice alla fine degli anni 20 più o meno quello che succederà alla fine cioè quando evidentemente su questo limitare su questo confine sottile tra consenso e invece obbedienza che sono due cose molto diverse ovviamente verrà fuori un'ondata ovviamente di sfiducia la stessa intelligenza realistica la dimostra il tenente colonnello comandante del gruppo di Roma all'inizio del 43 fino al 25 luglio poi finirà massacrato alle fosse Ardatine il tenente colonnello Giovanni Frignani il quale fa dei rapporti non so se questi rapporti sono mai giunti anche a Mussolini i quali riceveva normalmente ogni mese una relazione mensile dell'arma dei carabinieri però era sempre però sintetizzata dal comandante generale non so quindi se alcune di queste osservazioni che erano richieste dal comandante generale ai comandanti territoriali poi venivano anche trasmesse a Mussolini quello però che nel 43 febbraio 6 febbraio quando Mussolini fa l'ultimo rimaneggiamento radicale del governo manda via tutti i gerarchi che poi diventano i suoi oppositori in gran consiglio e poi nomina ad aprile un nuovo segretario il colonnello il tenente colonnello Giovanni Frignani scrive denunciando le rivalità che ci sono all'interno della classe dirigente fascista Bottai che fa un discorso per passare le consegne al nuovo ministro di educazione nazionale in cui nemmeno non nomina non nomina Mussolini fa un discorso di esaltazione della sua riforma della scuola che era la vera rivoluzione fascista e poi se ne va senza neanche salutare poi però il 5 maggio manifestazione del partito con il discorso del segretario all'Adriano il tenente colonnello Frignani informa i suoi superiori che il discorso di scorza che ha fatto molto entusiasmo però praticamente ha lasciato indifferenti gli squadristi i quali hanno poi sono andati a marcia sfilando sotto il palazzo Venezia Mussolini ha fatto l'ultimo discorso torneremo in Africa e cose del genere e gli squadristi hanno cominciato a fischiare e anche a malmenare Bottai e gli altri il tenente colonnello Frignani conclude dicendo non sappiamo gli sviluppi di questa situazione la documentazione che non è in questo libro perché l'ho vista più di recente per un altro brevissimo lavoro e non ne sapevo l'esistenza è il tenente colonnello Frignani che il 23 luglio comunica il segretario del partito ha convocato Mussolini ha comunicato il segretario del partito ha convocato il Gran Consiglio non so altro tutto vi rendete conto tutte le congiure eccetera cioè che il 22 23 24 a me non sono stati persi i documenti questo attentissimo osservatore a Roma di quello che succedeva dell'arma dei carabinieri non ha minimamente sentore che ci siano congiure o complotti in giro di cui ovviamente se ne parlava perlomeno da tre anni dalla disfatta dell'esercito italiano in Grecia ecco perché Mussolini stesso quando gli vanno a dire la moglie glielo dice l'amante glielo dice il segretario del partito glielo dice Grande dice che pure lui glielo dice ma quello che dice Grande non si sa mai se l'ha detto che lui non crede ai complotti ma questo giallo giallissimo ma non ci credo non ci credo ho fiducia nel re ora questa è la cosa che mi fa sembrare più demenziale Mussolini dal 1922 al 1923 o meglio fino alla 40 la guerra ha spossessato il re di tutte le sue prerogative sovrane compreso la successione automatica al trono gli ha tolto il comando militare su una cosa ha resistito il re ah sì risulta che il re abbia fatto profonda resistenza e ha ottenuto successo impedire che il fascio venisse inserito accanto allo scudo di Savoia nella bandiera però era stato già inserito nello stemma c'era già era stato inserito nello stemma dello Stato non solo ma quando si discute totalitarismo sì di totalitarismo no io dico sempre andiamo quando è nata la parola totalitaria fu adoperata Giovanni Amendola il spirito totalitario del fascismo che come la religione non ammetterà più che altri abbiano fede diversa fa questo commento usando questo aggettivo per le celebrazioni della marcia che non ci siano più albe se non col saluto romano lo scrive l'inizio di novembre 4-5 novembre del 1923 commentando le celebrazioni sulla marcia su Roma che il fascismo aveva celebrato a spese dello Stato con grandi manifestazioni della milizia di cui Mussolini capo del governo di uno Stato parlamentare però era il capo della milizia personale di partito e poi a spese dello Stato dei contribuenti questo lo dice anche Matteotti nel libretto un anno di dominazione fascista non usa il termine totalitario perché ancora non circolava ma lo usa Giovanni Amendola con un termine molto specifico e preciso lo Stato italiano fa coniare monete d'oro da 20 e 100 lire con le figie del fascio elettorio e la data ottobre 1922 1923 ora per carità non mi attribuite nessuna intenzione polemica ma Berlusconi non ha fatto coniare nessuna medaglia dopo un anno di governo e credo che neanche la Meloni nel prossimo settembre farà coniare una medaglia per il primo anno di governo per questo per Amendola questo fatto di un capo del governo che aveva una milizia al suo comando di amministrazioni che venivano abbattute con elezioni forzate che dovevano eleggere solo fascisti questo ad aprile maggio del 1923 con la dogmatizzazione lo dice un cattolico novello papafava di Mussolini come il nuovo verbo che non si può contestare non sanno come definire questo sistema politico di potere di dominio nuovo che non aveva paragoni con le dittature e dicono beh questo è un sistema totalitario apriti cielo poi arriva Nared che non sapeva di tutto questo e da quel momento il fascismo non più più totalitario il problema è che bisognerebbe cancellare centinaia di migliaia di articoli di tutti gli antifascisti ma di pochi fascisti perché nonostante le sciocchezze che si continuano a ripetere il fascismo si vantò di essere totalitario il fascismo si usa il termine ma non lo usa mai in maniera teorica e dottrinale persino nel dizionario del partito nazionale fascista che è l'enciclopedia treccani del partito fascista c'è la voce stato totalitario o totalitarismo era una voce non c'è non c'è non c'è i fascisti cominciano a teorizzare lo stato totalitario soltanto nel 1938 39 quando essendo stata ormai abolita ogni sopravvivenza dell'antica costituzione del regno rimaneva solo il senato ma lì si contava sul fatto che solo 80 30 no 11 senatori ormai erano rimasti non fascisti ma non frequentavano o non li permettevano di frequentare o la morte li attendeva come attende tutti prima o poi anche se non è il senatore non si preoccupavano ma com'è che il fedelissimo della monarchia è uno degli eroi del 25 luglio come federsori nelle memorie pubblicate nel 67 non subito dice il sistema totalitario fascista aveva espropriato il re il re era solo era solo e qualcosa c'ha a che fare con quello che è successo dal 1923 quando Amendola rimprovera al sovrano di far partecipare principi reali e membri della famiglia alla celebrazione della marcia su Roma una cerimonia fatta dal duce a palazzo Venezia e Amendola dice il re non può diventare partigiano e ormai poi poi verrà tutto quello che verrà come vedete ricchi e poveri uomini e donne facciamo una rapida certo la chiesa fece grandi opposizioni al fascismo leggete quello che dice il papa nel 1925 sulle sue tribolazioni e quello che dice nel 26 e quello che dice nel 27 e l'enciclica del 31 non abbiamo bisogno e il rapporto che fa Tardini Monsignor Tardini nel dicembre del 35 la chiesa sta attarversando il pericolo più grave della sua storia la gente crede più a Mussolini che al papa e i capellani che sfilano con saluto militare e il re che ha lo stesso grado del Mussolini o meglio il duce che ha lo stesso grado del re primo maresciallo dell'impero nel 1940 uno che era limitato nel suo potere dalla chiesa dal re tra il generale Badoglio e Mussolini nella manifestazione per l'entrata d'Italia in guerra chi è quello più contento di dire vi ho fatto fessi tutti presumo che sia Mussolini e non Badoglio dopodiché come voi sapete la storia va a finire con e viva la guerra vincere il cadavere e l'estinto torna e poi la fine che fece è quella che sapete provate a riproporre tutto questo che io ho raccontato che Luciano ha raccontato con me in cui di mio non c'è nulla tranne la fatica di trasformare i documenti in un racconto in una interpretazione del fascismo eterno o del fascismo che non è mai esistito e io vi proporrò per il premio Nobel per l'ignoranza saccente o per l'ignoranza della dotta ignoranza c'è una cosa che ha inventato lui anche perché l'inviato speciale aveva bisogno di una formula per conquistare i suoi lettori che è il Mussolini duplex no quella non l'ho inventata io neanche è una frase in un articolo del giornale Italia o qualcosa del genere purtroppo di mia invenzione non c'era neanche il titolo del libro guarda questa è l'ultima cosa che io vorrei dire perché mi sembra importante tra l'altro ci riporta all'eutanasia in un certo senso perché nel Mussolini duplex il Mussolini che è governo e partito che è duce del fascismo e ministro dell'interno perché tenne il ministero dell'interno quasi in interrottamento la stessa cosa ovviamente riflette la duplicità tra prefetto e federale fascista in ogni luogo in ogni provincia ecco questa duplicità di cui Mussolini era l'unico in cui questa duplicità si potesse in qualche modo fondere fondere positivamente diventare un elemento positivo questa è anche la duplicità che in realtà alla fine è alla base della disconnessione di quel perno è quello che viene notato qui siamo ripeto non negli anni 30 come il generale Poggesi non sta descrivendo il paese dove come hanno raccontato tanti per dire ma non era neanche un regime dittatoriale se c'erano Barzelletto lui sta descrivendo la situazione asfissiante di un regime chiuso nel 1928 quindi non erano qui parliamo Mussolini duple parliamo del gennaio giugno 1923 in cui quello che non si riesce a capire è che cos'è questo strano presidente del consiglio che è capo di una milizia composta di soli fascisti per difendere la rivoluzione fascista ma lui però dichiara che vuole la normalizzazione ma che sono le opposizioni che non vogliono la normalizzazione ma chi è che comanda allora c'è un un sistema usa proprio questo termine e lo inventa Amendola un sistema totalitario in cui non si capisce bene c'è il consiglio dei ministri e c'è il gran consiglio però il consiglio dei ministri spesso discute approva le leggi del gran consiglio che morgano di partito oppure c'è l'esercito ma c'è la milizia c'è la polizia però nelle province chi domina è la milizia c'è il prefetto ma chi decide chi devono essere come si devono fare le liste per le nuove amministrazioni fatte cadere con la violenza è il segretario federale oppure inventati gli alti commissari i prefetti volanti e questo che crea una grande confusione anche per colori i quali come Amendola come Gramsci come Turati alla Kulishov persone intelligenti di esperienza di cultura che però questi vedendo sto casino perdono questa questa bolgia la chiamano i fascisti bolgia all'interno del partito fascista ma soprattutto nei rapporti tra il partito dominante e distituzione e i rappresentanti dello Stato sono convinti che tutto si sfascerà Salvemini scrive nel maggio qua il problema è che ormai il fascismo si sta sfasciando il peggio è che dopo Mussolini chi torna? Giolitti Turati no 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 meglio tenerci Mussolini Turati che ancora nel 24 novembre dicembre con la Kulishov ormai il fascismo è finito ormai Mussolini è morto Gramsci è un cadavere che aspetta di essere sepolto agosto 24 poi vanno 30 consoli da Mussolini però altre migliaia di militi fascisti occupano la Toscana massacrano massoni eccetera eccetera e Mussolini prende un altro percorso quello che rende tragicamente affascinante questa storia è che non puoi capirla se vai cercando analogie o confronti ha una unicità impressionante dove giorno per giorno mese per mese anno per anno solo nel 36 si arriva proprio ad una sorta di io non credo all'idea del consenso ma diciamo di accettazione illimitata per cui non c'è nessuno più che osa fare opposizione tanto è vero che persino Benedetto Croce dà la sua medaglia e urlato dalla sua medaglia di senatore contro le sanzioni ma prima di allora questo regime costruisce il suo potere non su consenso ci sono anche le bellissime relazioni dei comandanti territoriali per i famosi plebisciti che sarebbero l'istintomo il segnale sì sì noi abbiamo lezioni usano un linguaggio molto molto singolare vanno liberamente con entusiasmi inquadrati a votare una cosa geniale anche alcuni vescovi dopo la messa secondo me siamo ancora io spero che il mio libro sia stato soltanto un tentativo di scrivere una storia del fascismo raccontando i fatti senza interpretarli e vedere se si capisce molto di più quello che è accaduto invece di costituire ancora una sorta di non abbiamo ancora capito bene il fascismo aspettiamo che lo spieghino i populisti sta avvenendo uno strano fenomeno adesso il fascismo non è più quello che io ho raccontato sul fascismo del passato vengono proiettate tutte le presunte connotazioni del fascismo di oggi che può andare da Trump a Berlusconi da Berlusconi a Meloni da Meloni a Xi Jinping a questo punto rischiamo di non sapere più cos'era veramente il fascismo italiano per cui fosse molto più comodo dire non è mai esistito che non essere complici del primo esperimento totalitario soffocante che è stato istituito in Europa occidentale quando in Unione Sovietica ancora non si sapeva se avrebbe vinto il comunismo più liberale di come si chiama di Bukharin quello più rivoluzionario utopistico di Trotsky o quello più burocratico e molto ispirato all'esempio italiano e ce ne sono prove indotte ma valide di Stalin ricordate che quando inizia il culto della personalità di Stalin nel 1929 per il suo compleanno l'unico culto di un capo vivente era in Italia aveva già sei anni di pratica e poi vedete chi è nato prima se il bolshevismo o lo Stalin e il fascismo o lo Stalinismo allora a questo punto dopo aver detto che è vero che io ho regalato quel libretto sul fascismo che non è mai esistito Emilio ma lui non se lo ricorda no non si ricorda di avermi regalato Emilio che evidentemente l'aveva doppia adesso magari mi dirà che inavvertitamente mi ha dato l'unica sua copia dell'edizione originale della psicologia delle masse di Gustavo Le Bon la psicologia delle folle di Gustavo Le Bon non te lo ricordi ma non me lo ricordi ma forse lo avresti restituito ecco appunto lo sapevo che dicendoglielo avrebbe reagito così allora signori noi avremmo finito però se c'è qualcuno che vuole porre sì prego io voglio fare una domanda da medico e da esperto di politica sociale se noi facciamo un giro nelle istituzioni italiane che ancora gestiscono per esempio andiamo al palazzo del ministro o andiamo al palazzo del ministro o andiamo a coprire la maternità infanzia dove adesso c'è il ministro della sanità o andiamo a verificare le scelte di politica social sanitaria che si sono state per la famiglia le ipad troviamo un'innovazione sociale e sanitaria fortissima una presa in carico dei problemi sociali e sanitarie durante il mattino e troviamo anche delle curiosità il ministro è stato direttore della medicina sociale una ragazza ha fatto una tesi di storia della medicina sociale e la sapienza è stato decisa a Milano da un ministro Mussolini Margherita Sarpatti Margherita Sarpatti che era un prea un cina di Ettore lei hanno nominato la Ettore lei direttore di questo istituto e questo istituto ha generato l'acquisizione della medicina sociale della Germania che era uno studioso di politica internazionale e ha generato di x comportali quindi la domanda è questa c'era uno statalismo compiacente per aggregare il popolo alla causa del fascismo quindi dell'accoglienza o c'era un senso di statalismo che poi noi chiamo statalitarismo che era nella DNA del fascismo comunque il primo contatto con gli ebrei è stato ecco la comunità internazionale che è un personaggio vario e tra l'altro che lui scriveva delle lettere per sostenere l'istituto di cina sociale e negli ultimi anni del 40 c'era Decessare che non le mostravano luce e che cominciarono a scrivere ad Achete e poi due cose sono finali il primo trattato di medicina sociale è stato fatto nel 42 da Armando e il primo trattato di antropologia criminale per valorizzare poi anche la gestione della politica presidenziale è stato fatto da 20 luglio molti sanno quindi c'è solo obbighiamo che già fino nel 42 sono mutate queste politiche sociali la risposta è molto semplice il 34 finisce c'è lo stracismo a tutti gli ebrei quindi i rapporti con gli ebrei finiscono il 34 Mussolini ripudia la sua amante l'unico ministro ebreo Jung viene dimesso un altro l'ultimo generale non ha più la promozione che era anche pugliese quindi se c'è stato un rapporto non persecutorio ma addirittura anche interlocutorio con gli ebrei finisce nel 32 34 da quel momento non aspetta il 38 per quanto riguarda la medicina sociale c'è una fortissima promozione della medicina sociale durante il fascismo dell'assistenza alla prole alla maternità all'infanzia ma è tutto finalizzato alla purezza della razza non ha nulla a che fare con il benessere del popolo perché nessuno poteva sottrarsi al fatto che poi tutto questo doveva culminare nella purezza razziale perché a fianco a questa medicina sociale c'era anche tutto ciò che riguardava la persecuzione aborto omosessualità e tante altre cose ma non a caso lei citava dalla Germania in realtà è stato rivelato da studiosi che la medicina sociale italiana soprattutto quella legata all'antropologia aveva cominciato ad elaborare concezioni razziste applicandole anche proprio agli italiani cioè quelli del meridione sono africani fin dal 1927 28 e i medici la scuola di medicina aderisce totalmente al fascismo perché abbraccia questa idea che finalmente anche i medici verranno coinvolti in un grande progetto politico la rivoluzione antropologica quindi da questo punto di vista quando si fanno queste considerazioni non si possono estrapolare dal contesto e dal fine che avevano credo questo è quello che so rispondere sì Federica dopo 50 anni di studi un errore di gioventù non volete poter pensare cioè una lettura dava all'inizio del vostro percorso l'unico errore di gioventù che ho commesso è quello di avere abbandonato la pittura per la quale avevo del talento per dedicarmi alla storia pensando che fosse una sorta di mio dovere civile una lettura che si è rivelata poi in corso ah beh tutto quello che pensavo fino al 1975 io ero un pessimo illuminista razionalista che considerava tutto ciò che era mitologia credenze religiose immondizia che non riguardavano la storia sì perché quando ho scritto il libro sull'ideologia fascista il primo libro in cui sono nato mi ero posto il problema se c'è una massa di uomini che governa un paese ma che cosa devono avere in comune andiamola a cercare però era basato esclusivamente sui testi verbali e letterari e qualcosa mi sfuggiva cioè dal 1975 al 1993 ho impiegato quanti anni sono? insomma tanti anni per capire che più che la parola scritta era la parola simbolica era il rito che era importante e ho scritto il culto del littorio perché? perché ho conosciuto uno storico di cui sono diventato amico George Mosse e lui mi derideva per il mio lui era illuminista pure lui però dice un illuminista completo non può fare Voltaire e deridere la religione e mi fece capire che ero piuttosto limitato nel cercare in fenomeni come il fascismo l'elaborazione teorica allora mi sottoposi come era giusto che Mosse lo conobbi negli anni 80 non ad una improvvisazione ma a lavorare sistematicamente su tutto ciò che nel fascismo era simbologia ritualità eccetera e venne fuori un altro libro però se avessi continuato a fare il pittore forse ora avrei una piccola saletta in una piccola scuola di Boiano dedicata ai miei quadri invece non c'è neanche una biblioteca dove ci siano i miei libri grazie 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 puoi chiudere tu dire due parole finali io ringrazio Emilio e Luciano è stata veramente un'occasione molto importante anche per come dire raccogliere le idee con una visione di insieme che non ha avuto momenti di sosta condotta in maniera positivamente aggressiva e secondo me è molto importante seguire un filo senza abbassare fondamentalmente i toni e la guardia mi viene in mente adesso pensando alle fotografie le immagini al discorso finale di Emilio in ragione sostanzialmente tutte le reghe bracciantili eccetera che quando ho avuto quelle immagini ma adesso sono difficili da ricavare quelle diciamo le mie le mie le mie le mie cioè io l'ultima mia slide è la presentata ecco questa qua delle immagini della presidenza e in Audi e ho voluto scegliere le immagini che rappresentassero un recupero fondamentalmente sin dall'inizio della presidenza del 48 di Einaudi di tutta una serie di figure e immagini la prima è questa è il funerale di Giuseppe Massarenti che è una figura emblematica quella a sinistra che sostanzialmente lui era un socialista che è di Molinella che non conoscevo ho cercato la voce sul biografico perché mi era assolutamente ignota di fatti è impressionante Einaudi bacia la salma esattamente che è un'immagine fortemente simbolica che si era adoperato per l'appunto leghe contadini bracciantini eccetera che durante il fascismo viene praticamente fatto viene considerato un esaltato e vive praticamente a Santa Maria della Pietà finché dopo alla fine del fascismo viene riabilitato riconsiderato testa pensante muore nel 50 quindi secondo me vicende come questa riassumono fondamentalmente ecco mi ha molto colpito il richiamo alla trasformazione nel primo dopoguerra dal 19 in poi di questa generazione di giovani che erano diventati improvvisamente proprietari che quindi vedevano in figure sostanzialmente vecchie come questa di Massarenti che riproducevano fondamentalmente la vecchia mentalità bracciantire per cui la soluzione fu quella di farlo internare sì vabbè poi c'è il padre dei fratelli Cervi la prima cerimonia le fosse di Atine anche mi aveva molto colpito questa cerimonia purtroppo le foto sono ammassate a Firenze e la traslazione delle salme di Carlo Annello Rosselli che vengono tumulate quindi in Italia fondamentalmente queste immagini sono del 49 la sua prima visita a Cassino distrutta dalle bombe fondamentalmente tutta la ricostruzione che esegui le ultime immagini invece riguardano una cerimonia del 2003 19 luglio del 2003 Ciampi che celebra il bombardamento di Roma ecco fondamentalmente ritorniamo ad oggi bene alla prossima grazie a tutti